buonasera ci siamo buonasera era buonasera buonasera siamo sempre primo caldo mercoledì di luglio mi sento un po giampiero galeazzi sto sudando come un giampiero galeazzi ho cambiato location e sì è solo per questa sera poi non ritornerò nella vecchia ma sarà una nuova ancora è un santucci è così ricco lui cambia una casa settimana io entro nelle case delle versioni chiedo posso fare scusate le faccio tra l'altro tra l'altro vogliamo dire come avevo preannunciato ai pochi presenti in chat che ovviamente non si è riuscito a far funzionare il microfono guarda io non so cosa sta succedendo però no non sono riuscito a far funzionare il microfono quindi sto parlando con il microfono delle cuffie stasera giustamente chiedono essenziali mauro io arrivo è no dicono come ti fa senza cuscino rosso e adesso senti mi sento mi sento se io ho detto da punto di riferimento vedi il ditone c'è il video c'è la chitarra in questa stanza dove c'è adriano danni e davide pavan 0 1 che mattina ha fatto l'esame di maturità quindi io spero che ti sia andato bene e se non è andato bene tanto comunque dai c'è dopo c'è l'università e tutto il tempo recuperare o se lavori ancora meglio voi quando l'avete fatto l'orale io l'ho fatto il 5 luglio il mio compleanno l'hai fatto ti ha portato bene io l'ho fatto il luglio l'orale a madonna il 12 tu mauro ci ricordi quando hai fatto l'orale io 0 assolutamente no a massa come fate a non ricordarvi io io avevo c'è sono proprio andato lì per togliermi questo peso dalla coscienza e dalla vita e andarmene vabbè ma è una data importante non ti puoi allora intanto sono successe delle cose mentre che dicevate cose a caso c'è carbonara warrior ha donato 5 euro dicendo al dente giusto perfetto a macca banana ha donato 2 euro ma buonasera ragazzoli mi raccomando di essere divante di croccanti è molto importante sempre sempre decidiamo però al dente o croccanti ragazzi due ora che se sei al dente sei anche croccante un po è in tutto ciò toma 95 ha regalato 5 abbonamenti e ragazzi si è abbonato anche the merlots attenzione a cercando di ringraziarsi il giudice si è abbonato anche se adesso dona anche 10 euro ha vinto la serata però può anche a prestarti dopo se non lo fai vincere e non so se ti conviene perché comunque mauriziello quindi quindi possiamo dirle oggi si stanno i quanti sanno che ci sarà ospite a fra che mangio solo pasta no allora benvenuti in questa nuova puntata del opinioni pericolose che non è quasi quiz ragazzi ma è opinioni pericolose e per chi ancora non conoscesse questo format se magari c'è qualcuno di nuovo cosa succede in questo format praticamente noi ogni volta o con un ospite o con un utente che ci scrive analizziamo un'opinione pericolosa a tema cinema essere tv come lo facciamo ci dividiamo in squadre ci saranno in squadre come se fosse un processo vero e proprio quindi ci sarà l'accusa e la difesa due contro due e io giudice insindacabile insuperabile come il tonno appunto e non il merluzzo questa sera e che deciderò alla fine chi effettivamente qual è se l'opinione pericolosa effettivamente è vera oppure no e quindi decideremo noi decidiamo un po le sorti delle opinioni del tutto non lo so aiuta la storia del cinema ti ricorda adriano come ti ho sempre detto e quello che decidiamo qua va a influire sugli mdb che sono gli internet movie database adriano ti abbassi un po' la camera perché ti si taglia gli occhi quasi no ma perché adesso stavo sì sì no perché stavo finendo di impostare qui la chat per leggerla e poi mi siederò più tranquillo ragazzi tra l'altro stanno per arrivare i tre mesi dall'apertura di twitch per noi e quindi per molte persone tra pochi giorni tutti quelli che si sono abbonati per tre mesi di fila sta per arrivare l'ingresso nel gruppo telegram puoi spiegare meglio puoi spiegare meglio come si fa a entrare nel gruppo telegram basta essere abbonati da almeno tre mesi quindi io maggio giugno e luglio mi sono abbonato al canale twitch di slim dogs e quindi appena scatta il terzo mese verrai contattato da questo incredibile pazzesco robot che usa telegram che ti dirà vuoi entrare nel gruppo slim dogs devi dire sì se entri poi chiacchieri con noi di tutte cose pazzesche tipo io sto infissato della stovas due in questo momento il gruppo discutiamo poi il gruppo parlano anche da soli volte io apre ci sono 650 mila messaggi a certo punto lascio fare però insomma è bella questa cosa se invece vi abbonate solo da un mese c'è il canale telegram che è meno interattivo però anche lì spesso noi ci andiamo a recuperare i partecipanti per il quasi quiz ci andiamo a recuperare i partecipanti per varie cose le domande per il come cazzo hanno ad esempio per partecipare al quasi quiz che il quiz che va in onda la domenica su questo canale tranne questa domenica ricordiamolo purtroppo non ci sarà per motivi di sopraggiunte urgenze per motivi di festa perché giovanni giustamente fa 40 anni e te pare che si mette a fare quasi quiz quindi ma te parteci festa pure nel altro c'è ragione e quindi i partecipanti del quasi quiz sono pescati solo nel canale quindi solo per chi è abbonato e niente a questo ragazzo scusatemi c'è un utente che si chiama ora et la borra grande un grande nickname che diceva a perché mi frega di parlare con te marco riguardo ma infatti dice ha pienamente ragione ha pienamente ragione però ci sono anch'io peraltro nel gruppo c'è mauro c'è giovanni ma lui sarà una persona sola e antipatica quindi non ce lo vogliamo nel gruppo guarda c'è chi dice non vorrei lamentarmi ma si sento un po diego non te lamenta facciamo entrare maurizio giacomo manda il link ringrazia un giacomo lorenzo ci sono anche i mod nel gruppo giustamente daniele scrive daniele lorenzo e daniele intanto anche nel gruppo eccolo maurizio ciao maurizio bomba buonasera buona ciao mauri senza farlo apposta ciao giovanni ciao mauro che adriano ciao marco non vi vedo da tanto sono contento di che noi alla posta o lo stesso outfit di mauro si esatto vediamo però sta meglio stretta a me sta un po a me no a me sta giusta però abbiamo anche lo stesso outfit è fantastico questo allora leggevo che oggi c'è di bala da power quindi in realtà noi stiamo abbiamo mega concorrenza ma ma no no vinceremo ma certo ma c'è ma per forza maurizio non esiste vinciamo sempre bravo purtroppo è una domanda di rito che io devo fare perché perché la fai tu falla fare a rito no perché la domanda è di rito ma poi la faccio io e quindi e quindi ti devo chiedere per chi magari ci sta sicuramente esisterà qualcuno che non ti conosce no che ti racconta penso sia anche più che lecito esatto quindi che fai chi sei da dove scrivi che ci racconta che fai ma raccontacelo con la voce di un personaggio a caso fai fare a lui bello c'è un personaggio di una serie c'è un personaggio di una serie che ho fatto di cui era uscito anche il film tra l'altro si chiama cotto e frullato il film su prime e userò la voce del protagonista che si chiama maurizio merluzzo in che era allora sono sono maurizio merluzzo o 34 anni a settembre specifichiamo nasco doppiatore perché molti sanno che io sono sul web sono tu appena nato l'amma nasco a milan sì sì datemi del latte nasco a prato in toscana a sette anni decido che da grande sarei diventato doppiatore perché volevo dare le voci dei cartoni anima alle le voci ai cartoni animati il mio sogno era diventare un cartone animato da grande quella cosa si è sviluppata con la passione per la recitazione il teatro e quant'altro mi trasferisco a milano nel 2007 comincio con i miei primi lavori perché ho frequentato poi il cta il centro teatro attivo dove ho studiato recitazione edizione tutto ciò che si confà alla formazione attoriale per poter poi essere un doppiatore e ho iniziato a lavorare a lavoricchiare nel 2008 finché insomma la mia carriera è proseguita fino ad oggi nel doppiaggio nel 2013 insieme a paolo cellammare il mio socio nasce cotto e frullato invece il mio primo format il nostro primo format esatto su youtube che è proseguito fino al 2013 dove poi 2017 perdonami quando poi è uscito il film che ha concluso la seconda stagione e da poco prima in parallelo siamo partiti poi col mio canale personale youtube che insomma continua prosegue e procede anche quello e se vuoi scegliere una voce grossa di un lavoro una cosa figa che hai fatto di recente da dire ad esempio io ho fatto ragnar 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 l'altro è fatto doppiato zaccarile come si chiama zaccarile vai noi non ti abbiamo sentito perché io e giovanni siamo andati all'anteprima e ci hanno fatto sentire il film in lingua originale quindi non ci abbiamo potuto sentire io l'ho visto allora considerate che quando l'ho doppiato il video era in bianco e nero in bassa qualità perché con le grosse prodotti anzi già era un miracolo che si vedesse perché quando abbiamo fatto ready player one non vi lascio neanche immaginare si vede un cazzo ma perché è fatto apposta sì per la pirateria e ready player one ho fatto uno dei tecnici che c'è alla fine quello massiccio con la barba quindi io l'ho visto in bianco e nero praticamente Shazam e quando poi l'ho visto al cinema la prima volta l'ho visto in l'ho visto oltre che averlo visto a colori e pipi aie l'ho visto e l'ho visto però in lingua originale l'ho visto prima due volte in lingua originale a Londra dove poi ho fatto anche un video con Zachary Levi che ho visto sta sul tuo canale sì 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 abbiamo fatto un video insieme con Zachary Levi che io ho doppiato in Shazam ma ho doppiato anche in Mrs. Maisel la serie di Prime fighissima dove l'interpreta Benjamin un medico e poi finalmente la terza volta che ho visto il film l'ho visto in italiano ma dopo due volte che l'ho visto in inglese era molto meglio ti sei sentito stereofonico pazzesco al cinema in DTS come ti sei sentito era strano no vabbè era ma sai la cosa buona bella era che comunque non era la prima volta che mi sentivo al cinema nel senso che oltre a che sentirmi mi sono anche visto al cinema col mio film la cosa bella è che è stato il mio primo protagonista esatto era quello è stato il mio primo protagonista un ruolo quindi importante oltretutto oltre che essere il protagonista del film ero anche un supereroe che un nerd come me insomma poi noi qui tutti insieme abbiamo fatto un video bellissimo per Justice League quindi tra l'altro sul canale di Maurizio c'è un video in cui lui incontra i protagonisti di Justice League e Maurizio sembra un Hobbit perché è un Affleck che è alto 3 metri e 10 e Gal Gadot che è non lo so quante altre sono infiniti sono infiniti e Maurizio c'è ragazzi Maurizio è grosso ma loro sono più grossi sono enormi sono enormi c'è il video con il protagonista di Aquaman con Gesù Momoa con Gesù Momoa lui è immenso non finisce amare sembro il figlio ma quindi adesso tu immagino che stasera hai portato un'opinione a tema maltrattamento degli animali su set giusto? esatto che è il tuo ambito e quindi a questo punto dopo che ci hai detto qual è il tuo mestiere diciamo parlaci e dici qual è l'opinione pericolosa che tu vuoi sostenere questa sera io sono qui per sostenere un'opinione pericolosa che mi appartiene molto e si parla di cinema insomma voi siete usufruitori di Cina siete anche creatori di contenuti video di contenuti multimediali abbiamo lavorato spesso insieme con Mauro di più perché con Mauro in realtà anni addietro abbiamo fatto di ogni quando io vivevo a Milano e lui a Roma poi mi sono trasferito e non abbiamo fatto più un cazzo esatto o più prima quindi Mauro dobbiamo rimediare la mia opinione è che io ritengo e ho le mie buone ragioni che il doppiaggio italiano per un italiano migliora la visione del prodotto quindi tu non sei ovviamente facendolo di lavoro vai vai contro tutta quella tutta quel filone lunghissimo che no la lingua originale ora vi spiego aspetta no 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 aspetta 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 adesso no e no ah io devo solo dire l'argomento certo adesso scusa che vuoi fare il culo ve lo faccio dopo ma no no ok sì perché mica puoi fare da solo contro tutti vabbè che sei grosso scusate volevo solo leggere un commento di uno che ha scritto ormai nel passato che comunque anche Momoa accanto a Cioni scompare esatto comunque sono tutti molto più bassi di Marco io sono molto più alto di tutti io sono due volte Ben Affleck quando vado a farmi vestiti dico due Ben Affleck in realtà sei dieci volte Ben Affleck infatti ti chiamano Ben Ten perfetto sapete che sarà così tutta la serata allora detto questo in squadra con te proprio perché tu adesso l'hai chiamato Ben Ten io pensavo di metterci Marco perché voglio che lui ti possa sostenere in questa perché so che è un'operazione importante perché io da quello che so il flusso mainstream è ma no l'interpretazione originale ma no perché la lingua, il doppiaggio quindi sarà un'opera difficile un'operazione difficile quindi Marco sarà in squadra con te in difesa mentre invece Giovanni e Mauro saranno all'accusa come funziona questo format? noi facciamo due giri dove ognuno porta discute la sua tesi quindi argomenta la sua tesi a turno e poi alla fine ci sarà una ringa finale che farete uno per squadra circa un paio di minuti ciascuno e alla fine di tutto io darò il mio giudizio in base a se mi avete convinto e anche la chat e anche la chat ovviamente faremo il sondaggio faremo un sondaggio in chat Adriano vai dimmi aiutami a muovere i quadratini alla tua sinistra c'è Maurizio no alla tua sinistra alla parte del dito dito c'è Maurizio ah ok qua sotto ci sta Marco ok perfetto accanto a Marco ci sta Mauro e tu sempre là e come sempre accanto a te ci sono io perché io poi io ho due schermi in uno schermo perché ho anche la chat aperta col canale e sono in un posto mentre nella chat perché tu sei un professionista Santucci no esatto Adriano non tiene mai aperto lo stream no io ho solo la chat non lo vedo mai Adriano deve sapere dove siamo perché lui deve indicare col dito perché una cosa io quando sono di solito sono d'accordo con quello che viene detto indico la persona in un segno di approvazione diciamo sono sei pronto al tuo subconscio sud ovest no no tu sei lì tu sei lì tu devi fare così non guardare dove stai tu Maurizio no perché io sto guardando la chat adesso eh no no tu sei sei qua guarda io indico qui ragazzi sento che ci stiamo perdendo nella geografia no no è giusto tranquillo è giusto è giusto è Mauro no no Mauro sta sotto non ti preoccupare sto guardando anch'io voglio confonderti dammi un secondo ho intenzione di confonderti va bene dai facciamolo comunque ti confermate che è qui Maurizio sì 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 Adriano tranquillo siccome tu ti lo chiedo ragazzi il vino di questa sera è un vino rosso è un sirat ce l'hai una bomboletta blu per i capelli chi? le butto indietro ah così sei come Mauro grazie grazie Maurizio allora Maurizio è il tuo momento inizi te ovviamente perché chi porta la tesi poi è il primo ad argomentare quindi prego puoi iniziare la tua opera di convincimento grazie sono dell'idea che per un italiano la visione di un film in italiano ne migliori la visione perché? della moda di cui si parla ultimamente ovvero quella di vedere i film in originali perché l'interpretazione alzo le mani lecito tu però il film originale lo devi guardare non lo devi leggere se tu guardi un film in originale con i sottotitoli e mi dici io guardo un film in originale sei il coglione due volte e ti spiego perché punto primo tu stai leggendo non stai guardando punto secondo perdendo tempo a leggere perché se tu ti guardi un film in inglese lo devi capire in inglese se no te lo guardi doppiato in italiano non ci sono santi se c'è una scelta registica di fotografia di scenografia di qualunque altra cosa un oggetto di scena un particolare un'inquadratura quello che vuoi tu nel momento in cui leggi i sottotitoli tu te li perdi quindi tu mi fai il cultore della recitazione quando magari alla recita in quinta elementare hai fatto l'albero ma perché devi sentirla in originale ma facendo ciò ti perdi il 50% di quello che il regista vuole farti vedere perché è vero che un film si ascolta ma un film si guarda ragazzi il doppiaggio è un'opera corale che va ad unirsi ad un'altrettanta opera corale che è quella della realizzazione del film ci sono indubbiamente e io sono di questo avviso film difficilmente doppiabili per le grandissime interpretazioni degli attori per la diversa tipologia di recitazione per esempio doppiare gli asiatici è molto difficile poi se volete vi spiego anche perché è veramente difficilissimo e risultare credibile doppiando un asiatico è un'impresa perché loro hanno un determinato modo di recitare che per loro etnia per loro modo di fare risulta naturale ma nel momento in cui viene tradotto e traslato in italiano sembrano degli anime giapponesi perché loro recitano come gli anime giapponesi Parasite per esempio io l'ho guardato per tutto il tempo cercando di capire come cazzo si potesse doppiare l'hanno doppiato non l'ho visto io l'ho visto in originale ma non perché parli coreano non perché parli coreano attenzione non perché parli coreano attenzione ho letto i sottotitoli sicuramente ho perso qualcosa però parliamo infatti io dici in italiano eh esatto tu parli dici in italiano per un italiano è in italiano per quello ti dico io ho visto Parasite in coreano ok se l'avessi visto in italiano sarei stato attento a più particolare di quello che di quello che compone il film registicamente stilisticamente scenograficamente probabilmente sì quindi se vuoi apprezzare un film al 150% te lo guardi due volte te lo guardi in originale e te lo guardi doppiato perché altrimenti e io capisco più chi mi dice l'ho guardato in entrambi i modi piuttosto che chi viene da me e mi dice io lo guardo in originale quando ripeto in quinta elementare hai fatto l'albero quindi che cazzo vuoi capire di recitazione quanti alberi quante recite tutti hanno fatto l'albero io ho fatto l'albero io ho fatto l'albero cattivo in quinta elementare posso chiederti qual è la differenza tra un albero buono e un albero cattivo Maurizio la differenza tra un albero buono e un albero cattivo nell'interpretazione l'albero cattivo muore l'albero cattivo è quello che piscia sui piani Adriano mi ha interrotto il tempo comico stavo per fare una battuta ah scusa ho visto che non ti veniva no mi veniva ce l'avevo pronta la stavo strascicando l'albero cattivo muore diabete però se tu me la devi far bere così cioè perdonami io ci stavo arrivando Adriano ti voglio bene lo sai però che cazzo fammi fare le mie figure pessime adesso concludi questo primo concetto così poi passiamo la palla all'accusa il primo concetto è che per poter usufruire e quindi poter godere di un film appieno del film della visione del film stiamo parlando della visione di un film quindi dell'esperienza cinematografica un italiano che non conosce altre lingue all'infuori della propria quindi il 90% della popolazione italiana usufruisce meglio del prodotto doppiato ok allora Mauro io vado a ricordare le cuffie che me ne sono scordate però Mauro vai tanto non mi interessa quello che è quando mi devi difendere grazie vai cioè ma chi è stasera tutti che se ne vanno peraltro è tornato anche il frullino a casa mia però va bene ma chi sta allora allora intanto parto citando un grosso problema una grossa ingiustizia c'è Maurizio che ha usato tutto il tempo la sua voce da doppiatore e non mi va bene non mi va bene dici che mi potrebbe no no perché molti in chat hanno detto che a prescindere dall'opinione adesso sono hanno questa questo amore nei confronti di Maurizio e non va bene non va bene se voi faccio tutti i discorsi in questo posto meglio meglio comunque a parte gli scherzi allora partiamo da un presupposto partiamo dal presupposto che ovviamente ho avuto la sfortuna di andare all'estero in Grecia a un certo punto e accendere la televisione e vedere delle cose doppiate in greco ed era era semplicemente parlato cioè all'estero hanno questa pessima abitudine di parlare le cose invece che doppiarle se poi poi ti racconto di vari doppiaggi del mondo come funzionano guarda non vedo l'ora anche perché poi finita l'opinione esatto sto in fissa quindi partiamo dal presupposto che noi siamo molto fortunati come italiani e abbiamo quindi è vera tutta la storia della scuola italiana assolutamente sì Giovanni tu stai dall'altra parte adria 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 fammi una citazione di un film che hai visto che ti è rimasto impresso in inglese beh certo non vedendo ecco non c'è no non c'è no in realtà vuol dire no no vabbè vabbè non interrompiamo Mauro però c'era Mauro esatto senza che poi vado troppo a dare ragione a Maurizio perché sennò poi è un problema esatto però per esempio una cosa che si nota spesso giocando ai videogiochi che non hanno il doppiaggio in italiano che non hanno il doppiaggio in italiano spesso succede che si sente il doppiaggio inglese se fai oddio che dramma i doppiaggi degli americani sui loro stessi personaggi è una cosa atroce ma io come al solito da buon avvocato insisterò su un cavillo ovvero il doppiaggio migliorà sempre la visione per un italiano dice il l'opinione a schermo e io è su questo sempre che voglio insistere perché se è vero che i sottotitoli possono distrarre è anche vero che come ha detto il nostro caro amico Bongio No vincendo il Golden Globe quando si supera quella piccola barriera del sottotitolo tutto diventa incredibilmente più più godibile relativamente all'esperienza originale e io non sto dicendo che tutti quanti siano in grado di fare questa cosa perché ci sono persone che io sono anni che cerco di convincere mia madre a vedere una cosa in lingua originale con i sottotitoli e lei continua a dirmi no guarda perché se non riesco a stare attenta al resto del film e ci sta però io ci ho messo quanto un mese penso che molti possono condividere questa questa esperienza con me ci metti un mese a superare il concetto di dover guardare i sottotitoli poi se hai un minimo di base di inglese inizia ad esserci un ping pong quasi invisibile cioè non me ne rendo neanche più conto che guardi i sottotitoli io non li guardo i sottotitoli ormai nel senso li ascolto l'occhio mi ci cade solamente quando c'è proprio una cosa che non ho capito però io ritengo solamente però lo capisco perché per anni mi ci sono messo nel senso c'è un film scusatemi ci sono due videogiochi che mi hanno segnato per questa cosa sono Kingdom Mars e San Andreas che erano i due videogiochi che non avevano il doppiaggio in italiano quindi ho dovuto per forza giocare in inglese con i sottotitoli quei videogiochi mi hanno abituato a quel media visto in quella maniera e da allora non sono più riuscito a tornare indietro perché effettivamente ripeto c'è una grossa quantità della popolazione che non può fruire come dici tu Maurizio è condannata a perdere parte dell'esperienza visiva e ci sta e in quello il doppiaggio gli aiuta ma non è sempre così c'è una grossa quantità di italiani che conoscono l'inglese lo conoscono sempre meglio che possono tranquillamente utilizzare i sottotitoli come linea guida e per loro visioni di film che parliamo però degli under 40 e l'Italia è un paese di vecchi no certo però io ripeto come in quanto avvocato insisto sul cavillo quindi migliora sempre la visione per un italiano no non la migliora sempre la migliora solo nel caso in cui ci sia proprio una totale mancanza di conoscenza dell'inglese prego Marco vai Marco allora a parte che secondo me quando Mauro dice totale mancanza di conoscenza dell'inglese è un po' diciamo non vorrei dire fazioso ma insomma è un po' allora l'ho detto esatto no perché secondo me a meno che tu non sia madrelingua di una determinata di una determinata lingua esatto tu in realtà quella lingua magari arrivi a comprenderla arrivi a anche a padroneggiarla ma se non arrivi proprio a viverla a sentirla ogni giorno non è la tua lingua e secondo me nel doppiaggio oltre al significato delle parole che è ok importante c'è anche una musicalità c'è anche un modo di dare le battute c'è anche un'abitudine al sentire le cose dette in un certo modo che ti dà la possibilità di cogliere sfumature che tu in inglese a meno che tu non sia proprio bravo ma proprio che tu vivi in Inghilterra da tanto tempo e ci vivi e vivi quella lingua per dire ne una non riesci a cogliere perché secondo me ci stiamo focalizzando molto sul significato cioè tizio ha detto questo caglio ha detto quest'altro e questo ok ci si può arrivare in inglese ma se tu ti vedi una roba in inglese senza veramente vivere quella lingua lì quanto cogli di come tizio sta dicendo quella cosa di tutta una questione che è difficile anche da spiegare perché secondo me c'è un sottofondo un questo questo non si può spiegare si può solo come fa Matteo Bruno si può solo far vedere che te lo perdi perché tra l'altro poi cioè e questa è una cosa se poi tra l'altro sei a livello perché se poi tu sei the catty son the table è il tuo livello come dice Maurizio ovviamente che è circa l'ottanta per cento degli italiani di che stiamo parlando cioè nel senso è una roba che non sta in piedi e secondo me il punto del doppiaggio è che ti dà la possibilità di viverti delle sfumature che con l'inglese non cogli semplicemente perché quella lingua non la stai vivendo non la vivi non è tua e quindi non riesci a riportarla nel tuo quotidiano e quindi ti perdi tutta una serie di cose che invece il doppiaggio ti regala e ti aggiunge Giovanni però io voglio ancora non c'è ancora nessuno che nell'accusa mi ha detto eh dai tra lasciando il fatto ok io sono assolutamente d'accordo sia con Mauro che Maurizio la scuola dei doppiatori italiani sono i migliori al mondo questa è una lo prova anche il fatto che all'estero non doppiano niente io ho vissuto a Parigi un anno e mezzo eh doppiano pochissimo a Parigi io ci ho vissuto un anno e mezzo c'ero c'è stavo e la maggior parte dei film che ho visto al cinema le ho visti tutti ecco la pausa ragazzi tutti quanti in chat dovete sapere quindi da questo momento in poi dovete ricordarvi sempre che Giovanni parla francese oui je parle français très bien je parle français très bien parce que j'ai imparé parler français dans le cinéma potresti aver detto qualche cosa j'ai imparé parlo français ma cos'è j'ai imparé Giovanni Giovanni je pur parle français tu parla francese je parle 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 francese più tempo comme ça vabbè esatto il discorso qual è e comunque si può dire il discorso qual è per esempio vivendo a Parigi io ho fatto quando sono arrivato non capivo assolutamente un cazzo ho fatto una settimana di corso in una scuola di francese giusto per cominciare a dividere le parole quando questi parlavano perché per me era un flusso continuo di gente faceva una volta capito come fare a scandire le parole io ho imparato a parlare francese al cinema perché andavo al cinema a vedere i film francesi che ovviamente essendo in Francia non finivano doppiati e in questo modo aiutavo il mio orecchio a comprendere la lingua purtroppo però parlando francese adesso non interrompere nessuno non hai imparato niente adesso dai siamo stati bravi fino adesso se io posso averti detto qualunque cosa non ci hai capito un cazzo quindi stai zitto il discorso è che nel mio caso sentire un film in lingua originale mi ha insegnato una lingua se ed effettivamente sono assolutamente d'accordo che la maggior parte delle persone che stanno in Italia che guardano e vanno al cinema non parlano bene una lingua straniera e anche perché siamo pigri non ci siamo abituati proprio perché abbiamo i migliori doppiatori del mondo che restituiscono perfettamente l'intenzione interpretativa di un attore con la lingua nostra che noi conosciamo può essere un grandissimo pregio però dall'altra parte è anche un difetto prendo un film uno per tutti ne ho parlato spesso di questa cosa In Glorious Bastards di Tarantino è recitato in lingue diverse c'era cioè chi doveva interpretare un tedesco parlava in tedesco chi doveva interpretare un francese parlava in francese un americano parlava in americano questo perché perché quel film ti insegnava anche a livello proprio nella storia che all'epoca sapere una lingua parlare bene una lingua o parlare bene un accento poteva salvarti la vita oppure no quel film ascoltato completamente in italiano è molto bello ma perdi tantissimo c'è tutta una gag con Brad Pitt all'interno del cinema all'interno del cinema c'è tutta una gag dove Brad Pitt si spaccia viene spacciato per un italiano e in lingua originale noi sentiamo Brad Pitt che prova a parlare un italiano strascicato ovviamente col doppiaggio che cosa hanno fatto hanno cercato di mantenere quell'intenzione ma l'hanno comunque doppiato quindi non ci sono riusciti se senti il film in lingua originale ci guadagna per dieci volte tra l'altro scusami in tutte le scene in cui tra loro parlano in lingua straniere francese tedesco in italiano sono sempre doppiati in italiano che parlano tra di loro in italiano è questa è questa la cosa che a me piace di sentire un film in lingua poi io sono uno di quelli che l'inglese lo capisce ma non benissimo lo parlo malissimo mi viene più facile capirlo perché fin da ragazzino adesso i videogiochi sono doppiati molti videogiochi sono doppiati quando ragazzino io ero col vocabolario a cercare di capire che cazzo se stavano a di questi perché un gioco in italiano non c'era erano tutti in inglese quelli giapponesi erano comunque tradotti in inglese quindi non esisteva cioè un The Last of Us quando ero ragazzino io l'avrei visto tutto quanto in inglese totalmente quindi stavo lì eccetera ma ascoltare quella lingua quell'inglese andarmela a tradurre cercare di capire questo ovviamente lo fai con un videogioco dove ti puoi fermare puoi ragionare mi ha aiutato a livello a imparare almeno solo in ascolto una lingua poi per la questione sottotitoli per esempio nel mio caso io non ho problemi perché sono abituato fin da piccolo a leggere i sottotitoli io Lost l'ho visto tutto in inglese perché la prima puntata l'ho vista in inglese è rimasta in inglese Breaking Bad l'ho visto tutto in inglese l'ho rivisto dei pezzettini in italiano e sono doppiati benissimo funzionano benissimo vai Maurizio ritroccando di notte io mi sono segnato alcuni punti sì In Glorious Bastard è un film spettacolare però me ne sai dire un altro in cui succede la stessa cosa allora solo che io mi ricordi a memoria a quella a memoria che io adesso solo lì c'è questa importanza particolare nella lingua ce ne sono sicuramente ce ne saranno altri ma non si ricordo ad esempio una serie i Soprano perché io l'ho vista tutta e stavo in fissa ogni volta a dire ma questa come cazzo l'hanno fatta in lingua originale perché loro parlano un po' americano un po' italiano anche là quindi però sono comunque sono mosche bianche questi film questi prodotti sì quindi è sicuramente possibile che capiti una cosa del genere però lì fai fronte anche alle scelte di direzione perché io molte volte mi sono trovato in sala dove il direttore voleva farmi fare una cosa e dai piani alti perché il cliente il decide dice no questo lo produco io lo mando lo distribuisco io e tu lo fai come dico io capisci eh no certo io per un cavillo io mi impuntai una volta su una serie ambientata in spagna a madrid loro e parlavano tutti in italiano perché erano doppiati vanno da questo meccanico questo meccanico era colombiano e aveva quindi un accento diverso e mi fanno e mi fanno lo faresti con l'accento spagnolo io gli ho detto scusami siamo a madrid siamo a madrid siamo a madrid questi vengono da me io parlo con l'accento spagnolo e loro in italiano ma che cazzo stiamo facendo quindi l'ho caratterizzato gli ho dato una caratterizzazione gli ho dato uno slang ma non potevo farlo con l'accento spagnolo se no sembra una pesa del culo purtroppo molte volte capitano queste cose quindi in Glorious Bastard è un film stupendo sicuramente ma infatti io cosa ho detto prima che un film ha visto due volte per chi non sa la lingua lo deve vedere due volte in Glorious Bastard io l'ho visto in originale e l'ho visto in italiano il lavoro italiano non gli puoi dire sul doppiaggio italiano non potrai mai questa secondo me è una assoluta verità il doppiaggio in italiano potrai dire non mi piace potrai dire è adattato male ma non potrai mai dire ed è raro anche in questo caso è fatto male no quello perché la capacità oggettiva della bravura dei doppiatori italiani mi è escluso perché non è che perché sono io secondo me è imprescindibile in chat dicono Willy dei Simpsons che è diventato sardo lui è gallese tutti i Simpsons nei Simpsons ci sono sardi veneti c'è di tutto guardatelo in originale che è doppiato da quattro persone i Simpsons con uno che fa sette voci ma di che cazzo stiamo parlando e allora scusa poi mi ero segnato altre cose Todd McFarlane esatto praticamente sì e guadagna quanto neanche avete idee Giovanni poi ti volevo dire in Francia i film hanno non è che non è che non doppiano li mandano al cinema in originale lo fanno anche in Italia ma non ci va nessuno per quanto la gente si lamenta perché tutti quelli che si lamenta ce ne sono pochissime ma non ci va non ci va nessuno e te lo posso confermare non ci va nessuno ci vanno quattro gatti perché tutti i cultori della lingua originale poi guardano lo streaming i pezzi di merda adesso ma io dicevo la Francia perché io lì ogni volta in una parcina ma c'era sempre il film in lingua originale doppiano dieci volte le serie che doppiamo noi in Francia è vero non solo l'adattamento francese stravolge e disintegra tutto ciò che è originale da noi Fininvest ai tempi degli anni 90 quando si doppiò Sailor Moon ti faccio un esempio ok o i Cavalieri dello Zodiaco ok o i Cavalieri dello Zodiaco si chiamano Banni Sailor Moon si chiama Banni in italiano perché perché non si chiama Usagi come in giapponese perché Fininvest imponeva gli adattamenti francesi in un adattamento francese tu non sentirai mai dire Tokyo no la mia città perché Mirko e Licia e lo zio Marrabbio perché vengono tutti da là sai perché vuoi sapere una 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 delle più grande cagate di adattamento della storia del doppiaggio italiano Goldrake Atlas Uforobo tu sai che si chiamava Atlas Uforobo io l'ho scoperto anni dopo Atlas Uforobo si chiamava perché perché Atlas in francese non è altro che Atlas Atlante non è Atlante ovvero ovvero la leggenda la leggenda delle pronunce significava leggenda come se a un francese gli arriva leggenda pronunce in italiano e quello chiama il cartone oh leggenda pronunce noi abbiamo chiamato Atlas Uforobo ok vabbè però però adesso stai dicendo il contrario cioè stai dicendo che quindi l'adattamento può rovinare no sta dicendo che i francesi è un adattamento di merda io ti sto dicendo che l'adattamento non può rovinare l'adattamento è capace di distruggere un'intera opera ma l'ignoranza delle persone punta il dito verso il doppiaggio infatti io sono partito con puoi dire che non ti piace puoi dire che non è fedele puoi dire quello che vuoi ma non puoi dire che è fatto male perché fatto male ce n'è uno su cento così come ci sono quei casi uno su cento come elencato di appunto in Bastardi Senza Gloria dove ci sono situazioni per cui è impossibile doppiare in Vikings dove ovviamente i vichinghi parlavano norreno e gli inglesi parlavano inglese le scene more puoi passare la voce le scene non erano doppiate Vikings è sottotitolato in quei punti perché non avrebbe senso capirsi tra di loro allora scusate io apro una parentesi a questo punto così me l'ha spiegato ma la questione che si è scatenata mesi fa su quell'opera giapponese che si è riportato non riapriamo queste norme a questo punto parliamo nominare l'innominabile cannarsi su internet allora io ne ho parlato già io l'ho già detta la mia abbiamo una visione comune abbiamo una visione di quello che è l'adattamento e del doppiaggio che è diametralmente opposta ma perché tutti si sono incazzati a morte qual è stata la pietra perché non si capisce un cazzo proprio della storia dell'adattamento non si capisce un cazzo i dialoghi non li riesce ti spiego perché secondo la sua visione dell'adattamento dal giapponese ok però vedi questo è un esempio che va un po' tuo discapito Maurizio perché in questo caso non ha migliorato non ha migliorato vabbè ok il doppiaggio sì il doppiaggio sì l'adattamento è una cosa l'adattamento è una cosa vabbè 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 esatto esatto spiegami spiegami perché io non ho seguito bene la questione la sua visione dell'adattamento ovvero dei dialoghi italiani è che si deve rendere fedele non solo l'intenzione ma anche il termine utilizzato quindi quasi una traduzione letterale è come se tu traducessi come se tu volessi far parlare un inglese come parla come noi un inglese dice l'MMA no? è Mixed Martial Arts e tu lo adatti in italiano in ah Miste Marziali Arti capito? ok è questo quasi il set questo è diventato esatto questo è diventato te lo sto facendo molto vabbè per capirci generica mentre la mia visione del doppiaggio è diametralmente opposta dell'adattamento tu devi adattare in italiano per gli italiani se io guardo un prodotto che non conosco come può essere Evangelion e non capisco che cazzo stanno dicendo come faccio ad appassionarmi non si doppia per i fan i fan se lo guardano in originale non si doppia per i fan si doppia per tutti per questo il discorso è gli italiani usufruiscono di un determinato prodotto non si doppia per una nicchia diamo la parola io c'avevo ancora dei punti per rispondere a Mauro te li vuoi usare vabbè dai dai finisci così poi diamo la parola a loro no c'erano quelli del doppiaggio nel mondo e del doppiaggio dei videogiochi però quello analizziamolo quello analizziamolo mentre facciamo esatto quello analizziamolo mentre facciamo la ringa finale la ringa finale che tanto esula dall'opinione nel se per sede più insomma una questione esatto di conoscenza che è bello sapere allora io purtroppo per quanto abbiamo già appena detto che ovviamente adattamento e doppiaggio sono due cose diverse su questo siamo d'accordo però inevitabilmente il concetto qui diventa se io devo scegliere se guardarmi una cosa in lingua originale con i sottotitoli o guardarmela doppiata ovviamente l'adattamento è una roba che andrà ad influire sulla mia scelta nello specifico voglio citare un caso in cui io trovo particolarmente difficile guardare le cose doppiate ed è quando si tratta di commedia che si che si ha un cartone che si ha diciamo che io questa cosa la percepisco particolarmente con tutti quanti i vari cartoni per adulti americani però il punto è che quasi sempre lì si fanno in America soprattutto si fanno tanti giochi di parole tanti di quelli che vengono definiti pants e è una roba che non si riesce a restituire per quanto ci si sforza ci si ritrova sempre con della roba che io spesso perché poi ovviamente questi sono tutti quanti prodotti che abbiamo visto tutti quanti da ragazzi in televisione doppiati e c'erano una serie di battute che spesso ci hanno fatto storcere il naso ci hanno fatto dire ma questa battuta che significava faceva ridere perché era nonsense però ok e poi magari ho risentito con la stessa roba più tardi in lingua originale ho detto ah no ok questa battuta aveva un senso era un gioco di parole era basato su questo era basato su quest'altro altra cosa ripeto sempre stesso discorso è ovvio che non è colpa del doppiatore che doppia ma inevitabilmente influenza la mia scelta nello scegliere una o l'altro l'altro modo di fruizione del prodotto e che spesso si tende soprattutto su la roba più irriverente a censurare una serie di cose che delle volte sono un po' eccessive e questo per me è un problema perché voglio poterlo decidere io nel senso voglio poterlo decidere io se mi ritengo offeso o meno da una determinata battuta non voglio che sia qualcun altro a decidere quindi ripeto questo è un problema e per quanto tornando alla questione di prima è una roba che Marco diceva sul fatto che bisogna essere dei madrelingua per capire l'inglese cioè non è così boh una linguista in chat mi ha dato ragione considera ok ma una linguista traduce dall'inglese non guarda la roba dei sottotitoli cioè buon per lei io non sono un madrelingua inglese e riesco a guardare un prodotto in inglese senza dover guardare i sottotitoli ma penso lo stesso valga per Giovanni e no Marco non devi fare così con la testa hai detto prima che ogni tanto devi guardarli no zio beh dipende che ogni tanto mi casca l'occhio quello succede ogni tanto mi casca l'occhio ma questo vale dimmi che tu guardi i Peaky Blinders in originale lo capisci io guardo Peaky Blinders in originale e tengo i sottotitoli però non mi da cioè non perdo la fruizione no ma perché lo guardi di più però il sottotitolo in Peaky Blinders perché quando parla Tomardi no ecco quando parla Tomardi però anche lì io ho trovato a guardare le testi in vivo originale però anche lì ritorniamo alle mosche bianche allora ogni quando esce fuori un personaggio un attimo un attimo ogni quando esce fuori un personaggio come quello di Tomardi allora torniamo al discorso e facili tu delle mosche bianche nel senso sì ogni tanto succede che c'è un personaggio con un accento particolarmente difficile però a parte che quella è una roba che vale pure per gli americani che non capivano un cazzo di quello che diceva Bane in Dark Knight Rises se parlava comunque gli hanno messo una palla in bocca e l'altro discorso ecco su questo concludo e passo la parola a Marco l'altro discorso è che quasi sempre un prodotto doppia in lingua originale con i sottotitoli non lo si guarda quasi mai al cinema perché come diceva donatemi un attimo ragazzi non ti preoccupare 30 secondi io continuo per la chat quasi mai un prodotto in lingua originale con i sottotitoli non lo si guarda al cinema perché come abbiamo detto ci sono pochissimi tipo a Roma sono pochi quelli che lo fanno e come diceva Maurizio ci vado solo io e senza saranno 5 sale sì sì ci vado a Porta di Roma ogni mercoledì alle 7 ci vado solo io e le 4 persone che non parlano italiano a Roma però il discorso è che la maggior parte del tempo quando guardi qualcosa in lingua originale sottotitolata lo guardi su uno schermo televisivo che è molto più piccolo e che ti permette quindi di non perdere niente di quello che succede perché con un unico sguardo riesci a guardare sia quello che sta succedendo sia a dare un colpo d'occhio ai sottotitoli e a meno che tu non faccia la quarta elementare chiedo scusa non ti preoccupare intanto ho detto sicuramente qualcosa per cui avrei torto esatto alla fine di questa cosa voglio tirare fuori un'altra curiosità a meno che tu non abbia non abbia la comprensione del testo di un bambino di quarta elementare due righe di testo riesci a leggerle in mezzo secondo quindi non riesci non hai bisogno di fare avanti indietro con gli occhi perlomeno io non lo faccio detto ciò chiudo e dico un'altra cosa io e Maurizio oltre ad avere la stessa canotta abbiamo anche delle origini molto simili perché se non ricordo male uno dei tuoi genitori è di Foggia tutti e due tutti e due quindi ragazzi io e Maurizio siamo ma così era solo per dire questo ma solo per questo perché me lo sono ricordato perché quando prima lui ha fatto il francese con evidenti accento barese sono ricordato di questa cosa allora io intanto voglio cominciare con quello che ha detto Giovanni Giovanni ha detto io ho imparato il francese guardando i film in francese adesso parlo francese riesco a godermi i film in francese e torni esattamente a quello che dico io tu hai vissuto tre anni in Francia quindi riesci a vederti un anno tre anni un anno hai vissuto un anno in Francia stando con una ragazza francese per cui diciamo che lo parlai pagandogli l'affitto vabbè se parliamo di un'altra storia però sì gli paghiamo l'affitto va bene perché Giovanni è Giovanni è un gentiluomo no no ci dissociamo è una cara ragazzi neanche la conosco ma sarà chiarissima ragazza io ho detto che è un gentiluomo cosa è successo quindi torni a quello che dico io tu hai vissuto per un anno quella lingua e quindi poi sei riuscito a arrivare a goderti e a vederti i film in quella lingua in un modo che se non avessi vissuto in un anno in Francia non avresti mai potuto viverti perché che ne dica Mauro ragazzi perché Mauro ha sempre questo problema che prende il suo personale e lo estende al resto dell'universo non tutti sono capaci beh quindi basto io eh no ma non è no vabbè non è vero perché poi ovviamente si parla di un sempre che sia statisticamente plausibile perché poi ripeto secondo me in Italia è statisticamente plausibile che la maggior parte degli italiani non sappiano neanche riuscire a stare dietro ai sottotitoli tra l'altro Marco scusami se ti interrompo ma tanto sono la stessa parte noi qui ci stiamo impuntando tanto sul fatto che l'originale sia in inglese guardatela in ma infatti in finlandese cioè ti potete io ho trovato una serie una volta in Fiammingo sembravano dei rincoglioniti che facevano finta di parlare tu ti vedi è un misto tra l'olandese il belga il francese il tedesco sembravano dei fiammingo sembravano tu ti vedi Border Town su Netflix che è solo tipo in svedese e non capisci un cazzo nel senso che poi io a Border Town ogni episodio stavo così concentratissimo perché parlavano svedese ma dovevo leggere i sottotitoli però è un giallo quindi proprio c'è la follia arrivavo alla fine dell'episodio però posso dire che guardare un film in lingua originale di una lingua che non si capisce non è è solo una stronzata però c'era solo quello c'era solo quello eh no ma Adriano eh no se sei un difensore dell'originale Cristo io sono il giudice quindi eh no in generale se in generale sei un difensore dell'originale se quello parlo in inglese e il bielorusso lo guardo doppiato il cazzo il bielorusso te lo guardi in bielorusso ci sono quelli che se guardano gli anime giapponese gli anime giapponese ma che cazzo capisci degli anime giapponese hai un problema risolvilo e poi vedi te lo doppiato perché non stai bene detto questo eh andando avanti ma lo psicologo lo psicologo devi andare in lingua no vai sottotitolato così stai comunque bene ehm l'altra cosa che volevo dire è stupendo quello che dicono Giovanni e Mauro che quando tu ti guardi i film in lingua originale riesci a cogliere un sacco di cose di interpretazione dell'attore pazzesco tutta una serie di cose quanti attori cani bastardi gli italiani rendono attori capaci a vivere tantissimi ragazzi perché se ci sono una marea di attori che noi riteniamo grandi attori perché poi c'è Luca Ward che li doppia e li fa risultare incredibili Tom Hanks è un grande attore ma c'ha la voce di Paperino è ridicola la voce originale di Paperino e di Tom Hanks a proposito un aneddoto anni fa vennero io ho dei parenti in Canada a Montreal arrivarono a fare delle vacanze qui da me e stava andando mi pare o Angeli e Demoni o il Codice Da Vinci sentono la voce in italiano di Tom Hanks e fanno ah madonna io lì ho scoperto che lui in realtà rispetto all'italiano c'è una voce totalmente diversa quando la senti è quasi non credibile la sua vera voce un aneddoto in una direzione devo raccontare quello nell'altra l'attore che interpreta Marshall quando si è sentito in How I Met Your Mother quando si è sentito doppiato in italiano è rimasto stupido che l'italiano risultasse così stupido perché lui in realtà non recita con quella voce da tontolone all'attore che doppia Marshall l'attore che interpreta Marshall si troga pesantemente mauro è un problema c'entra lui non sa giudicare non ha un giudizio vabbè Marco concludi così poi no quindi dico che il doppiaggio se tu sei italiano e nella media l'italiano qualunque altra lingua l'inglese dovrebbe essere la prima lingua che sai parlare non la parli bene figuriamoci il giapponese lo svedese il tedesco il francese eccetera non lo capisci in più c'è la possibilità di averci una persona che si mette lì e prende la recitazione tipo vogliamo dirne una Megan Fox che ragazzi in inglese è posso citare René Ferretti stai attento ne puoi dire tanto io dico René Ferretti è una citazione è contestualizzata basta dico questo ok e poi tu la senti in italiano ed è pazzesca oltre che stupenda da vedere sa anche recitare per cui ci sono due motivi per farla stare nei film a quel punto capisci che forse da italiano vedersi un film in italiano ti dà molto di più dell'esperienza di un film che vederselo dovendo diventare uno che legge i sottotitoli mentre cerca di cogliere il punto vai Giovanni è il tuo ultimo turno e poi partiamo alle ringhe finali il problema però vabbè io volevo parlare di una cosa che praticamente ne ha già parlato più o meno male Maurizio stesso che è l'adattamento che purtroppo modifica cioè è detta quasi le regole del doppiaggio alcune volte perché se una cosa viene adattata male purtroppo poi viene viene doppiata e cambia molto spesso l'intenzione anche addirittura di alcune cose cambia come diceva Mauro la questione della commedia io ho visto un film in lingua originale che si chiama Ted 2 è una cretinata Ted è veramente una cretinata però è un film comico che vuole ogni tanto fare anche della satira di un certo tipo e in inglese l'ho visto con i sottotitoli in inglese c'erano tutta una serie di cose che mi avevano fatto ridere e comunque mi avevano divertito c'era anche un tipo di satira contro la politica americana contro lo stile di vita americano che nel 2020 ormai conosciamo benissimo quindi è difficile che faccia una battuta su un personaggio su un politico su una situazione in America che in Italia non ne abbiamo mai sentito parlare e funzionava tantissimo poi e dissi a Mario Balucci vallo a vedere perché fa ride lui andò a vederlo in italiano il giorno dopo mi chiamò minacciandomi dicendo ma che cazzo mi è andato a vedere che è pieno di battute stupide non fa ridere mai pare in cinepanettone ora adesso non mi ricordo bene invece in inglese c'erano battute completamente diverse Marco perché c'è una parte c'è una parte dove c'è una parte dove Ted l'orsetto è il protagonista che è un attore che non mi ricordo mai il nome perché mi sta ampiamente no l'attore Mark Wahlberg esatto vanno a stand up vanno a stand up comedy vanno a vedere una stand up comedy e praticamente Ted risulta molto più simpatico dello stand up comedian e ci sono una caterva di battute che hanno a che fare con gli stati uniti e ovviamente in italia l'adattamento l'ha massaggio ma non è vero perché si capivano cioè parlavano di prendiamo per il culo politici che adesso ti ricordo non mi ricordo esattamente perché l'ho visto diversi anni fa però ai tempi funzionava la sala ero in un'anteprima cinematografica lo capivamo quello che stava succedendo in italiano hanno riadattato tutto per l'italia e in realtà invece di mantenere la scena l'hanno completamente disintegrata in quel caso per quanto può essere bravo il doppiatore purtroppo il suo lavoro viene distrutto da un adattamento di merda ora il discorso in questo caso è il problema che alcuni hanno col doppiaggio io guardo i film in italiano assolutamente ci sono delle cose che guardo in lingua originale anime ne guardo pochissime di anime però quando li guardo tendo a vederli in originale ripeto ma io non ho minimamente il problema dei sottotitoli riesco a leggere i sottotitoli a vedere l'immagine con una rapidità perché ci sono abituato lo faccio da quando avevo 14 anni e adesso ce n'ho 40 quindi riesco senza nessun problema e non e non mi dà fastidio minimamente ci sono state delle cose che in italiano non mi hanno funzionato ma a livello di senso alla fine più che di doppiaggio di per sé poi ragazzi io sono molto legato a fin del padrino chiunque mi ha sentito parlare per due minuti lo sa benissimo il padrino purtroppo negli ultimi riadattamenti ha avuto un cambiamento del doppiaggio perché a parte che grande ferrucciamendola santo sempre ovunque gli sia è venuto a mancare lui doppiava sto mondo e quell'altro e quindi nel dover ridoppiare tutto hanno cambiato il doppiaggio e non mi funzionato perché hanno ridoppiato il padrino come hanno ridoppiato credo un crollo dei diritti scadono i diritti esatto scadono i diritti ma ha lo stesso motivo per cui hanno dovuto ridoppiare Evangelion non solo di cui parlavamo prima anche tutti gli Indiana Jones sono ridoppiati sì hanno dovuto ridoppiare ogni volta che vengono rifatte versioni di Blu-ray da non sempre spiego se volete ve la spiego come funziona io ho ridoppiato io faccio parte di un ridoppiaggio di Planet 51 un film d'animazione sugli alieni io ho fatto parte di un ridoppiaggio cambiano i diritti di distribuzione costa meno far ridoppiare un film che pagarne i diritti del doppiaggio i diritti nuovi ripagare i diritti lo fanno ridoppiare e se c'è la possibilità chiamano le stesse persone sì se lo rifai 30 anni dopo no è capace che qualcuno io ho la fortuna che casualmente sta qua vicino di avere questo è il DVD del padrino che è completamente adesso è fuori catalogo da diverso tempo che questo ha il doppiaggio in italiano originale e questo per me è una grandissima fortuna perché il doppiaggio in italiano di questo film l'ho amato il lingue originale l'ho visto diverse volte in lingue originale questo film ci sono i protagonisti che sono degli italiani o comunque da famiglie italiani che vivono in America che molto spesso fra una frase e l'altra parlano in siciliano ed è una cosa che purtroppo nel doppiaggio non so per quale motivo hanno deciso completamente di eliminarla o comunque di adattarla leggermente perché ogni tanto qualche patuta in siciliano c'è ma quello che c'è nella lingua originale è una roba è spettacolare è bellissimo e quindi questa è l'unica cosa che a me disturba leggermente il doppiaggio che a volte non si tiene conto quindi mi sto riferendo più che altro a chi fa l'adattamento e ai direttori del doppiaggio a volte non rendono non si non tengono conto di tutta una serie di scelte fatte in in origine per caratterizzare determinate cose nel riadattamento in italiano nel far doppiare a degli attori bravissimi questo lo dirò fino alla morte perché ne sono convintissimo e nel rifare il doppiaggio italiano poi l'ultima cosa io chiudi perché siamo lunghi si chiudo la cosa che mi dispiace più di tanto è ogni tanto è la perdita di quello che è la lingua perché per esempio la passione di Cristo se era parlato in inglese o se era parlato in italiano o se era parlato in qualsiasi altra lingua del mondo avrebbe perso tantissimo è stato difficoltoso seguire un film parlato in una lingua stranissima quest'aramaico eccetera e seguire i sottotitoli ma era faceva parte di quello che è la bellezza e bruttezza questo è comunque soggettivo però faceva parte di quello che è l'esperienza nel vedere quel film vedere un film d'epoca che parla di una determinata storia e che parla una determinata lingua vero allora adesso facciamo così Maurizio non mi picchiare quando mi vedi per strada no ma di che anzi sono d'accordo su questa cosa che hai detto della passione di Cristo e mi viene in mente un cortometraggio che abbiamo coprodotto con la mia società la The Best Blend insieme a Dive Division questo cortometraggio si chiama La Fiamma che è recitato completamente in cimbro il cimbro è una lingua che si parla nell'alto trentino se non sbaglio ed è un misto tra un fortissimo dialetto trentino e il tedesco è una cosa che è allucinante tutto il corto è parlato in cimbro io ho avuto il piacere la fortuna e l'onore di dirigerne il doppiaggio ma non perché perché come sapete benissimo qualunque film in presa diretta ha poi necessità in alcune scene tutti si ridoppiano da Hugh Jackman a Robert De Niro tutti ridoppiano scene proprie perché la presa diretta vuole o c'è problemi con l'audio e qualunque altra cosa quindi ho diretto questi tre ragazzini italianissimi che hanno recitato per tutto il tempo in cimbro e li ho diretti al doppiaggio in cimbro con un traduttore di fianco perché io dovevo capire che cosa stavano dicendo le intenzioni che dovevano esternare questa tipologia di prodotto merita e deve nella maniera più assoluta rimanere in tonza ma nella totalità della così come l'aramaico così come può essere il cimbro così come il latino che gli americani proprio sanno pronunciare sembrano dei cani bastonati quando parla è una cosa inascoltabile l'americano che parla latino è una cosa terribile quindi io per questa tipologia di prodotto amante del cinema e non posso che essere d'accordo ma noi stiamo parlando del grande mercato della grande distribuzione soprattutto in questo momento di massima espansione soprattutto delle piattaforme streaming come netflix come prime dove non c'è più solo il film americano una serie americana c'è il film tedesco francese polacco ungherese russo ci sono tutte queste lingue le vite degli altri allora facciamo così aspetta aspetta visto che questa mi puzza di arringa finale di me è ruto esatto puzza di me è bravo lanciamo il sondaggio così Maurizio conclude l'arringa lanciamo il sondaggio con finale per così anche voi possiate esprimere voi che ci state guardando la vostra opinione Maurizio concludi e poi diamo la parola all'accusa per la sua arringa vai stavo dicendo che appunto grazie a tutte queste piattaforme online streaming legali che ci sono adesso io odio lo streaming illegale in una maniera un po' grazie a tutte queste piattaforme abbiamo la possibilità di usufruire di tantissimi prodotti quindi dicevo non solo più in inglese ma in giapponese in tedesco in francese in spagnolo in svedese in finland in qualunque lingua tranne noi gli altri in italiano due perché da noi esce solo una roba buona ogni tanto purtroppo sarebbe bello produrre cose più internazionali in Italia ma ahimè siamo un po' limitati riguardo a questo grazie a tutte queste cose noi possiamo soffrire di tantissime lingue diverse ok se io voglio farmi una maratona di film e mi guardo sei film in sei lingue diverse io mi rincoglionisco vuoi vedere che se me li guardo doppiati ben adattati e ben doppiati perché qui non stiamo parlando di un adattamento a caso stiamo parlando comunque di prodotti che escono in un certo modo non è che stiamo parlando dei dinosauri della dingo picture stiamo parlando insomma i presupposti nascono da un prodotto ben fatto quindi se io devo vedermi in film di una lingua che non capisco o che non conosco o che non apprezzo al cento per cento tanti motivi ci possono essere o anche perché non ho voglia di leggere i sottotitoli ma perché come dicevo prima voglio godermi la fotografia voglio godermi la scenografia voglio vedermi i particolari delle riprese delle inquadrature dei riflessi di qualunque cosa me lo guardo doppiato in italiano tanto con queste piattaforme il film te lo vedi tutte le volte che vuoi e per questo dico che partire a priori con no io lo devo vedere in originale mi sembra una stronzata radical chic perché io apprezzo molto di più chi mi dice il film lo guardo in originale e non ci mette i sottotitoli perché allora sì lo stai guardando in originale ma se li metti lo stai leggendo e ti perdi il 50% del film se ne vuoi godere al 100% te lo guardi due volte allora diamo la parola all'accusa mauro io allora qual è il punto è che abbiamo sviscerato un po' tutto abbiamo detto che ci sono tanti bei doppiaggi sono tante commento in chat che mi ha fatto girare il cazzo vabbè scusami adesso rispondi stai calmo non si può scrivere queste stronzate dai vabbè dai dai stai calmo adesso no no perché la gente vabbè adesso ci facciamo mandare il suo indirizzo detto questo io faccio una ringa finale e cerco di di ricordare che è un gioco dovete stare tutti molto in chat no no non tu mauri in chat detto ciò la questione è che ci sono situazioni in cui non si può guardare una cosa in lingua originale non si sa bene l'inglese non si ha modo di guardarlo non si ha voglia non si vuole fare lo sforzo qual è il problema è che utilizzare questa cosa del fatto che non ti stai davvero vedendo il film perché non lo stai vedendo al 100% è un po' nascondersi dietro un dito delle volte perché quante persone hanno il televisore impostato bene quante persone hanno il come si chiama la movie mode quella roba che ti raddoppia il numero dei frame rate che tutti i televisori ci hanno impostati di default quante persone ci hanno impostato il filtro anti-mpeg che ti cambia tutta la decodifica e ti mette i quadratoni cioè ragazzi ok allora o siamo tutti quanti come Tarantino che abbiamo la pizza originale del film a casa col proiettore dentro la sala cinema oppure in realtà già normalmente facciamo tante piccole cose che ci allontanano da quella che è l'esperienza originale di visione e secondo me con tutte le accortezze per quella parte di popolazione per cui non è un fastidio infinito tipo me tipo Giovanni tipo tante persone che conosco che capiscono l'inglese e si tengono i sottotitoli semplicemente per una questione di ricontrollarli una volta ogni tanto è un fastidio che va a denificiare poco rispetto al beneficio che dà nel ricevere quella che è l'interpretazione originale che è stata data bene quanto manca alla fine del sondaggio una novità chi si abbono al sesto mese avrà Mauro Zingarelli che verrà a casa vostra a impostarvi il televisore bene ma ragazzi veramente io c'è mia madre che ogni volta che fa l'aggiornamento del televisore mi telefona e mi fa Mauro perché si vede di nuovo tutto come una telenovela spagnola mi dici che cosa devo cambiare per favore ma guarda glielo dico sempre anch'io è una cosa incredibile noi non abbiamo detto è che il doppiaggio è anche la porta che permette a tante persone di soffrire di contenuti che altrimenti non si guarderebbero però non puoi farlo perché l'opinione è finita non si inculerebbe mai niente del nord Europa perché non capirebbe un cazzo e non vuole leggersi sottotitoli invece non è quello il punto Marco esuliamo esuliamo dal discorso finito il discorso esuliamo dalla ring e da tutto quanto è finito all'inché il sondaggio ragazzi prima di sapere il stato del sondaggio posso dire quella cosa che mi è un po' come dicono i giovani trighierato ti prego Maurizio non ti trighierare troppissimo no perché è il vero nascondersi dietro a un dito ragazzi perché l'ho detto all'inizio non mi puoi dire poi non capisco l'interpretazione originale ma perché se te lo guardi in bel ho preso la lingua è più difficile da dire se te lo guardi in svedese tu capisci come uno svedese declina una frase o un'intenzione lo capisci come uno svedese declina un ti amo o un'imposizione o un condizionale tu lo capisci? no quindi non c'è è sempre meglio un originale perché devo sentire l'attore ma non capisci l'italiano capisci l'orvegese ma che cazzo stai dicendo ma non questo è nascondersi dietro un dito ma chi siete? degli insegnanti di teatro che non capite la recitazione dell'attore bulgaro? no no Giovanni prego raccontaci il sondaggio ok allora perché porca puttana se io dico ti amo in italiano se io ti dico ti amo non sarà mai con uno slofrozza che cazzo ne sai che slofrozza in polacco e ti amo e che ti trasmette lo slofrozza dall'attore bravo non tocchiamo i film polacchi se non forna Marina no esatto perché io vorrei vedere se Marina è in chat e ci sa dire le intenzioni varie Marina adesso ha il suo canale Twitch e ha 5.000 persone che la seguono in live ogni sera fra l'altro Matteo Bruno dice che parla in svedese con tutti i mobili che ha che ha montato e le istruzioni le legge sempre in lingua originale effettivamente ogni volta noi ci abbiamo avevi merda allo studio i mobili esatto noi tutti i mobili li chiamo quando c'è stata quella giornata con Matteo all'inizio proprio di tutto che abbiamo montato tutto li chiamavamo con il loro nome originale era in carino Giovanni questo sondaggio allora il doppiaggio migliora sempre la visione per un italiano diciamo che il distacco è minimo è veramente poco siamo 47 contro 53% quindi siamo là vicino ci si governa un paese attenzione quindi c'è chi l'ha fatto col 17 sicuro il 47% cioè 673 persone hanno votato no quindi in teoria la chat dice sì con 53 vince il sì per la chat con 53% che cioè 764 764 persone su un campione di 2700 si su un campione 6 siti di 1300 persone questo strano fenomeno nelle nostre live votano la metà delle persone gli altri ti annoiano nelle live funziona così sempre così non si capisce gli altri sono impegnati a leggeri sottotitoli Mauro capito 1437 persone oh ma allora comunque se ai ragazzi piace vedermi incazzare venite sul mio canale comunque nella chat ci sono tutti i profili i vari profili social di Maurizio che ogni tanto girano i moderatori i moderatori li mandano quindi se volete poi seguire Maurizio cosa coatta arriverà c'è chi scrive a me si blocca quando c'è il sondaggio ma queste sono le cose strane che succedono ogni volta comunque io voglio dire delle cose prima di dire quello che penso e quindi la mia decisione per questa sera allora partiamo da una cosa da un punto da un esempio che prima abbiamo trattato true detective allora no partiamo ancora più indietro io di solito mi approccio alla visione di film o serie tv per la mia vita normale la sera ok la sera alla fine di una giornata lavorativa mediamente impegnativa medio tanto impegnativa che quindi poi rispetto a quello che vai a vedere andarlo a vedere anche con il sottotitolo e quindi uno sforzo ulteriore rispetto alla comprensione è sicuramente per me fa da piccola barriera all'ingresso nel senso che io tante volte mi sono trovato a dire porca miseria però non ce la faccio perché fare lo sforzo di mettermi a capire anche dove magari non capisco bene quindi per me io a volte preferisco spesso preferisco di perdarmelo in doppiati però è anche vero che poi io iniziai a vedere True Detective in inglese appunto non ci ho capito un cazzo l'ho visto tutto in italiano molto bello poi l'ho rivisto perché è un capolavoro in lingua originale ragazzi in lingua originale Matthew McConaughey ma anche l'altro che non mi ricordo mai come si chiama Woody Harrelson fanno una roba pazzesca quello che poi ok è un esempio ma cambia tanto per quanto sono stati bravissimi chi è Giannini a doppiare Adriano Giannini che doppia no non lo so Adriano Giannini doppia Matthew McConaughey esatto Woody Harrelson e Pino Insegno ah è vero è Pino Insegno hanno fatto una roba pazzesca mi avete fatto venire in mente una cosa tra l'altro una cosa molto bella che accadde quando è mancato tanti anni fa quando è mancato Oreste Lionello Woody Allen mandò un video di saluti all'Italia ringraziando Oreste Lionello di aver fatto apprezzare Woody Allen agli italiani perché parliamo ragazzi parliamo comunque anche di anni perché c'è da fare questo gap generazionale c'è ci sarà sempre noi negli ultimi dieci anni meno abbiamo dieci sì negli ultimi dieci anni abbiamo la possibilità di vedere i prodotti in originale di poter scegliere di vedere in originale sì esatto ma prima si vedeva doppiato e chi è cresciuto con i film doppiati difficilmente riesce a rivedere lo stesso film io Friends non riesco a vedere in inglese perché da bambino lo vedevo in italiano io c'è lo stesso problema con alcuni film il doppiaggio di Dragon Ball è tutto capito ma è ovvio perché poi là c'è un lato emotivo però non solo non solo c'è l'orecchio c'è l'abitudine se tu domani vedi Mauro e Mauro parla con un'altra voce ti dà fastidio ti sembra un'altra persona ti sembra un'altra persona e quindi stavo dicendo quindi però c'è da dire che in quel caso ma in tanti altri casi di interpretazione originale comunque porca miseria cioè porca miseria ad esempio però un'altra serie che io non sono riuscito a guardare per quanto si capisca Ozark uguale io l'ho guardato dall'inizio doppiato mi è piaciuto molto anzi ti devo dire che invece lì quando poi mi è capitato perché ora a causa Covid mi pare che le ultime due puntate dell'ultima stagione non le hanno potute doppiare e erano solo in lingua originale quindi lì mi ha fatto molto strano perché poi figura di abituato a tre stagioni e alcune cose di lui di Jason Bateman neanche mi sono più piaciute rispetto a prima anche quello che dice Marco è giusto sulle intenzioni secondo me nel senso che ma ok l'inglese magari un pochino lo mastichiamo ma tante altre lingue poi cioè ti vai a perdere tantissimo ma anche esatto slowfrozza ormai diventa il mio mantra nella vita voglio una maglietta scritto slowfrozza quindi te le perdi ma in inglese stesso te le perdi perché poi le intonazioni gli intercalari cioè te le vai te le vai comunque a perdere secondo me quindi ho detto tutto queste cose Adriano è passata un'ora e venti sì è colpa mia che abbiamo fatto è colpa di un'ora è colpa di un'ora se volete ho ancora gli appunti che mi sono preso io adesso secondo me l'opinione è il doppiaggio migliora sempre la visione per un italiano secondo me comunque sì il doppiaggio migliora sempre migliora e facilita la visione per un italiano quindi vince la difesa per colpa tua Marco adesso ha finito di rompere il muro finito adesso va giù la parete a forza di sghiarri la lascia a Maurizio oggi sono d'accordo perché alla fine se non possiamo parlare solo in inglese a quel punto cioè e sono d'accordo ma che vuol dire che tu ti metti a guardare un anime in giapponese o un film in bielorusso comunque per esempio Friends in inglese ve lo consiglio perché ci sono tante cose ma indubbiamente ma indubbiamente sicuramente ci saranno delle questioni di adattamento in italiano anche perché si parla di un prodotto di vent'anni fa ma sicuramente ma se tu ma c'è anche l'affetto l'affetto è certo ma fa una componente enorme fa parte delle emozioni ma per dire Mary Poppins io sono sicuro che poi lo guardi in inglese io forse non l'ho mai visto in inglese ma ci farà cacare in inglese ma non esiste Mary Poppins in inglese non c'è esatto capito è in originale in italiano da subito è in italiano di supercola ma vaffanculo ma cosa vuoi pronunciare le lingue le sillabe comunque si quello che è fa cacare è bello in italiano mauri se tu poi vuoi deliziarsi tutti questi aneddoti noi adesso abbiamo un altro ospite però poi dopo facciamo il posto opinioni pericolose in cui parliamo di tutte cose in maniera più tranquilla io non sono mai tranquillo Marco no però dico senza stare nelle squadre ognuno dice quello che pensa senza dover ma io sono solo nella mia squadra io ho giocato da solo allora tu giocherai per te stesso guarda Marco che Maurizio sa dov'è il nostro studio e c'è anche più volte siete qua dietro due minuti con la macchina adesso a venire ad esempio guarda come lo convinco guarda come lo convinco subito Maurizio tantissimi in chat stanno scrivendo che Friends in italiana è una merda in inglese è tutta un'altra storia aspetta aspetta se resti fino alla fine adesso non puoi dire niente ma io l'ho già risposto a questa domanda no e non lo puoi però puoi insultarli uno per un puoi insultarli dopo no allora in generale in generale chi dice questa cosa è una merda in punto in senso oggettivo e quindi un limite proprio mentale puoi dire non mi pia non lo assrezzo dobbiamo creare hype ragazzi abbonatevi al canale la questione Maurizio vuoi rimanere come giudice insieme ad Adriano per la prossima opinione ad esempio posso tornare posso tornare nel post va bene dai posso tieni d'occhio il telefono che ti scriviamo un messaggio quando ci siamo dammi un orario a questo punto diciamo 11 e un quarto 11 e 20 11 e mezzo alle 11 e mezza io entro il link ce l'ho dai dai allora dopo alle 11 e mezza torna Maurizio Merluzzo per chi ha scritto che France è in inglese è la vita ecco sappiate esatto leggiamo i nick che lui parte e mena ok Maurizio è più grosso di quello che sembra in video ve lo dico cioè dai grazie mille grazie a tutti ciao a dopo ciao 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 allora facciamo subito entrare io direi ho già chiesto ho già chiesto è stata è stata calma è stata un episodio per i po' calmo ma ma diretto c'erano tutti jeb in faccia poi ogni volta era molto ecco ecco Flavio ragazzi tanto io mi sfogo ve lo dico ecco Flavio ciao Flavio ciao buonasera c'è ardito enorme bellissimo applauso a Flavio tu hai il ditino e io il ditone è giusto è giusto bravo Flavio bravo adesso me la compro anche io è pelato vedi alla Games Week di qualche anno fa adesso devi fare lo svorone però Flavio dai su allora Flavio comunque entriamo subito nel vivo presentati un attimo tu chi sei che fai nella vita e poi ci dici la tua opinione certo allora buonasera a tutti grazie per avermi invitato io mi chiamo Flavio ho 33 anni sono di Napoli sono essenzialmente un grandissimo nerd e nella vita non adesso però fino a qualche tempo fa poi ho dovuto interrompere per questioni private di priorità ho anche scritto di videogiochi su un'importante testata italiana puoi dirla ho scritto su spaziogames.it quindi è possibile che qualcuno magari abbia letto è l'unico luogo dove io vado a leggere le recensioni dei videogiochi infatti quando l'ho conosciuto Flavio ho detto ma io ti conosco perché l'ho già visto da qualche parte e quindi in realtà inoltre sei fan poi nella vita sei anche fan di Slim Dogs ovviamente infatti oggi volevo indossare la maglietta mi dissocio l'hai già comprata no sono solo di livello 3 ah quindi ma ti è già arrivata no no non mi è ancora arrivata infatti ho dovuto ripiegare su D'Ovasto Vasto ma è del primo o del secondo D'Ovasto Vasto è del primo quella ce l'ho anche io perché aspetta dico velocementissimo che per chi è lì quei pazzi che si sono iscritti direttamente al livello 3 qui su Twitch ce n'hai uno sotto e lui è uno di quelli grande e la prima volta ricevono in regalo una delle nostre magliette a scelta solo la prima volta il primo mese vai Flavio allora la mia opinione pericolosa ovviamente non poteva che trattare anche di videogiochi e quindi la mia opinione è che i film tratti da videogiochi sono eccessivamente criticati ah cioè nel senso aspetta spiegaci meglio cioè tu vuoi dire no aspetta prima di iniziare tu vuoi dire che ai film tratti dai videogiochi è come se gli venisse richiesto un lavoro in più per poi poter piacere alla fine sono proprio denigrati a prescindere in quanto tale in quanto tale denigrati solo perché tratti da esattamente ok allora aspetta no aspetta dobbiamo fare squadre giusto giusto eppure te vuoi andare da solo vabbè che c'è il ditone ma poi avrebbe fatto tutto da solo e dai allora io direi che invece siccome so che Mauro è un grande appassionato e tu stai sta toccando anche squirtle no di nuovo bravo chiamaglielo squirtle che sia io sono una ragazzi io so chiamaglielo squirtle io sono io da qui sembra squirtle comunque siccome so che Mauro è un super nerd del videogioco da sempre di tutti i videogiochi e del cinema sommati a questo punto chi se non Mauro può essere in difesa con Flavio e quindi dall'altra parte invece avremo Marco questa volta all'accusa e di nuovo Giovanni all'accusa io vediamo se sono stato bravo Giovanni adesso ho messo Flavio qua no c'è Mauro dai 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 Flavio qua Mauro qui sotto tu sempre qua e Marco qua va bene così posso dire una cosa di squirtle la prossima volta che incontri un alligatore per strada voglio vedere se lo confondi con una tartaruga zio ma io ti sto guardando si vede benissimo che è totto si vede così piccolo va bene va bene vai Flavio Adriano scusa tu sapresti riconoscere squirtle ma io ne ho no squirtle da vicino si ce l'ho inquadrato quello è perché sei miope però è un'altra cosa eh va bene va bene adesso prima di iniziare di insultarci vai Flavio ah senta scusate io devo fare una cosa perché sennò poi c'è disparità questa sera che hai gli occhiali tutti gli occhiali è arrivato Jeff Goldblum Edna Mood Edna Mood vai Flavio vai allora la mia opinione nasce tra l'altro sul canale di Giovanni e te pareva perché io ricordo che durante un finale di live sua lui se ne uscì con proprio questa frase i film tratti dai videogiochi sono della monnezza fanno schifo così io dissi guarda io non sono d'accordo secondo me non è così e lui disse propone una opinione pericolose vediamo come va e mi trovo qui è colpa tua e quindi colpa sua quindi già parte con uno svantaggio notevole io la mia opinione la vorrei strutturare velocemente in tre punti senza andare troppo per le lunghe ricordati che hai due turni sì 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 allora il primo è che essendo trasposizioni o comunque adattamenti ci troviamo sempre davanti alla solita questione che chi ha già usufruito della prima versione deve avere comunque per forza da ridire e questa è una battaglia che più o meno già conosciamo tutti come per esempio tutti i film tratti dai libri che si devono lamentare del dettaglio del particolare eccetera eccetera per i videogiochi è peggio perché se noi andiamo a vedere quante persone effettivamente hanno letto i libri prima di andare a vedere il film non sono quante le persone che hanno giocato il gioco prima di andare a vedere il film che sono molte di più quindi già si parte da una posizione di svantaggio in secondo luogo ci sta anche da scindere quella che è una semplice commercialata da quella che invece è un progetto serio che sono due cose distinte e separate perché le commercialate sono ovunque in qualsiasi ambito in qualsiasi contesto noi abbiamo visto più e più volte delle licenze sfruttate in maniera indegna ma non per questo devono spalare merda attosso a tutto il settore quindi già questa cosa io la voglio assolutamente escludere a prescindere dall'altra parte però abbiamo un mondo della critica assolutamente chiuso dalla parte del cinema e che ha una grandissima difficoltà a valutare per quello che è un film tratto dai videogiochi ma solo io sento un gong in sottofondo no lo sento anch'io lo sento anch'io Flavia non è che stai dando dei colpi col ditone a qualcosa di anche perché di spugna non lo so va bene non lo so vai no 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 tienilo tienilo ma non colpirci cose se era quello poi non lo so vai 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 allora il discorso quindi è che questa cosa diciamo tra virgolette discriminatoria o comunque di chiusura verso un medium diverso lo abbiamo visto anche a parti invertite cioè nei videogiochi tratti dai film che come sempre prima partivano da commercialate da licenze sfruttate tanto per che però grazie al fatto che il medium videogioco è molto più recente del cinema e si è sviluppato con un ritmo estremamente più più veloce e ha avuto un'evoluzione esponenziale negli anni nei pochi anni che ha avuto di vita questa situazione l'ha già superata e infatti abbiamo visto alcune licenze che all'inizio venivano viste un po' con diffidenza come per esempio videogiochi tratti dai fumetti oppure videogiochi tratti proprio dei film sono stati superati con giochi estremamente validi se non ottimi al limite del capolavoro come per esempio la serie Batman Arkham oppure abbiamo visto anche guarda ti fornisco un assist leggendo il commento di Azi Bolombo che dice io dico la verità da amante di Assassin's Creed del film mi è molto piaciuto infatti l'Assassin's Creed è uno dei film su cui maggiormente voglio puntare bravo allora passo mai a leggere il commento grazie Flavio grazie Azi Bolombo grazie perché penso che sia uno dei più brutti detto in maniera molto molto rapida negli ultimi dieci anni i film tratti da videogiochi i più famosi essenzialmente sono stati tre che sono stati dieci anni fa Prince of Persia tre anni fa Assassin's Creed e un paio di anni fa Warcraft all'inizio tutti e tre partivano da grosse licenze gli ultimi due cioè Assassin's Creed e Warcraft partivano con la non la pretesa ma comunque il progetto di farne una trilogia di raccontare una storia che durasse tre film tutti e due sono stati cancellati nonostante però attento Flavio perché così no sono stati cancellati per delle critiche feroci che gli sono state mosse infatti hanno avuto una media più o meno del 4 su 10 tutti e due sia Assassin's Creed che Warcraft che cozzava tantissimo con quelle tra virgolette poche ma neanche tanto persone che al cinema sono andate e che se lo sono godute e hanno detto che gli era piaciuto tant'è vero che se andiamo a vedere ed è facilissimo su Wikipedia pure se ne trovano le critiche maggiori che vengono mosse ad Assassin's Creed sono totalmente pretestuose e sembrano fatte da persone che il film non l'ha neanche visto si diceva per esempio che Fassbender che non solo ha interpretato sia diciamo il protagonista nel mondo reale che Aguilar che era l'assassino nei tempi dell'inquisizione spagnola Fassbender praticamente era ridicolmente serio come se il fatto che essere seri non si confa a quello che è un film tratto da videogiochi che deve far ridere e vengono tutti tacciati di essere ridicoli di fatti in Warcraft una delle critiche delle maggiori testate a livello mondiale dicevano che c'è una ridicolità intrinseca all'interno di Warcraft vogliamo dare un attimo aspetta diamo la parola all'accusa così poi ti tieni per il secondo giro vai Marco allora io sono molto felice che la tua critica si fondi anzi la tua opinione per questo si fondi principalmente su Assassin's Creed perché io speravo per te che tu quel film neanche lo nominassi in quanto credo che sia un film brutto ma anche se fosse stato tratto da un'opera teatrale russa avrebbe fatto comunque schifo perché è un film brutto è scritto male è noioso è inconcludente è recitato io l'ho visto doppiato quindi poi magari non lo so però in generale l'interpretazione non mi è sembrata proprio adatta ma il punto è che tu guardi alla fine del film e dici vabbè c'è a te dei personaggi di Assassin's Creed del film non te ne frega un cazzo dall'inizio alla fine qualunque cosa può succedere a chiunque quando spoiler muore il vecchiaccio a te non frega un cazzo che sia morto perché non te ne frega non sai è proprio inconcludente è gestito male e chiunque chiunque ne capisca un minimo di audiovisivo deve sostenere questa roba perché poi per quanto tu ti possa stare lì a dire che il film è tratto dal videogioco quindi il personaggio eccetera il film ragazzi è scritto con i piedi perché dei personaggi a te non frega un cazzo non ti prendono e qual è il problema secondo me questa opinione è fallimentare in relazione al fatto che purtroppo un buon 99% dei film tratti di videogiochi non so per quale connessione astrale tra chiunque decida di fare un film tratti di videogiochi fa schifo viene male ma perché questo non perché sia tratto di videogiochi ma perché poi i film che escono fuori sono brutti in tanti casi inutili nel buon 99% se ne salvano forse due per quanto mi riguarda Pikachu Detective Pikachu che però che secondo me è un buon film di intrattenimento cioè hanno fatto un film che si chiama Detective Pikachu ed è un buon film cioè io l'ho visto mi sono divertito c'è pure un carino pazzesco io stavo in fissa perché poi io sono il primo che sta in fissa io quando è uscito fino a Assassin's Creed stavo in fissa perché ho detto bello è una storia figa vediamo che fanno hanno fatto una roba orripilante ora qual è secondo me il punto che se tu fai un film tratto dai videogiochi penso possiamo essere tutti d'accordo che non lo fai per fare film d'autore lo fai per fare un blockbuster no Mauro adesso dopo quando Mauro poi parlerà mi farà un esempio di un film tratto dai videogiochi nella storia del cinema che aveva l'intenzione di essere un film questo è il vero Opinioni Pericolose dai dai lo aspetto Mauro Zingale cazzature e elenchi io non no no zitto dopo dopo dai voglio un titolo di un film tratto di videogiochi che avesse l'intenzione di essere un film d'autore e non di fare in cassa io non vedo l'ora di poter parlare perché vuol dire che tu avrai spesso di parlare mi parlerai di Tomb Raider e Resident Evil film d'autore pazzeschi detto questo secondo me visto che per un buon 99,999% quando uno fa un film tratto ai videogiochi lo fa per la massa lo fa per l'intrattenimento e non lo fa per fare per vincere l'Oscar o fare Fellini fa quello che fa la Marvel cioè intrattenere se tu poi esci dal cinema che non sei intrattenuto vuol dire che il film non funziona e con l'80% 90% dei film che io ho visto tratti dei videogiochi non ha funzionato perché pure Warcraft per quanto sia impostato bene ci sia un sacco di lavoro dietro a livello di grafica costumi quello che ti pare poi la storia non ti prende il problema di questi film non so per quale motivo forse rischia tutti la stessa persona che sono scritti male quindi tante dei personaggi non prega un cazzo quindi sono inutili perché esci dalla sala e non ti hanno aggiunto niente ora voglio sentire il film dei videogiochi d'autore adesso non commentare Mauro fallo parlare no no io voglio sentirlo il titolo voglio Marco Cioni io non contesto questa cosa io contesto il fatto che tu faccia questa puerile distinzione tra i film di intrattenimento e i film d'autore che è come al solito uno strumento da marketer del cazzo perché non è così che funziona non è che esistono i film grazie Adriano vogliamo smettere questa questione allora il film di intrattenimento allora il punto è che se io mi sono andato a vedere un film il film d'autore è fatto per rompermi le palle coi martelli quindi dato che sono arrivato grazie Marco grazie prego prego volevo che si leggesse bene non è quello che ti sto dicendo Marco quello che ti volevo dire è che non esiste questa distinzione non può esistere anche perché il film di Assassin's Creed non so se sai l'ha diretto il regista che aveva fatto Macbeth subito prima quindi non è quella la questione è infatti Assassin's Creed forse era meglio che rimane a Macbeth tra le sue qualità e forse era meglio che rimane tu lo sai perché io lo so perché perché il punto era quello di portare una visione nuova all'interno del fatto però non te lo inventare dopo 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 non te lo inventare però sto inventando sto dicendo la verità perché non so se sapete che Assassin's Creed è il primo film che ha all'interno della struttura produttiva la casa di produzione del videogioco Assassin's Creed è stato famoso me lo ricordo perché quando c'era la notizia io stavo a pallettoni è famoso per essere il film prodotto dalla Ubisoft è stata Ubisoft stessa a far parte del team quindi il motivo per cui hanno assunto il nostro il nostro amico Justin Kurzel che aveva appena fatto Macbeth che era un film visivamente pazzesco perché volevano che Assassin's Creed forse visivamente pazzesco alla stessa maniera infatti se c'è una cosa che non si può che non si può criticare è quella di provare a prendere una direzione diversa ora qual è l'opinione del nostro amico Flavio che tutti quanti i film tratti dei videogiochi sono dei capolavori indiscutibili no ma che i film tratti dei videogiochi vengono eccessivamente criticati in maniera prioristica ed è vero perché il problema è che prendiamo Warcraft e prendiamo Assassin's Creed e troviamo i due esempi perfetti in cui in uno si è cercato di cambiare quello che c'era nel videogioco per cercare di andare in una nuova direzione e non è andato bene nell'altro invece si è raccontato esattamente quello che succede nel videogioco e non è andato bene perché i vecchi non ci hanno capito niente perché Warcraft è una trama molto complessa perché qual è il problema principale è che un videogioco è fatto quando te va bene 50% gameplay e 50% trama e spesso le trame sono molto più inconsistenti di quello che ci sembrano la trama di Assassin's Creed è molto simile a quella che c'è nel film semplicemente è pari sono alcuni dei miei videogiochi preferiti e il punto è che purtroppo la verità è che la trama io non so se te lo ricordi il finale del terzo è una bella cacata è il problema perché il problema è che li hanno dovuto finire sono ispirati per il film solo al finale del terzo il discorso è che purtroppo quando stai giocando a un videogioco ti ritrovi di mezzo il gameplay che ti migliora l'esperienza quando stai raccontando un film ti ritrovi sul film quella è una roba difficile da fare ok e se noi smettessimo di andare al cinema semplicemente dicendo che i film dei videogiochi devono essere esattamente con la stessa esperienza che abbiamo provato quando stavamo giocando al videogioco che è una cosa impossibile magari potremmo capire ed evitare di continuare a dire che il problema dei film dei videogiochi sono i videogiochi sono che sono tratti dei videogiochi e c'è una maledizione no perché era la stessa cosa che è successa con i film dei supereroi hanno fatto un sacco dei Daredevil prima di riuscire a fare Spider-Man però ci sono riusciti e il punto è che c'è stato bisogno della fiducia da parte del pubblico che non è quella che non gli stiamo dando semplicemente vai Giovanni allora dopo la favoletta di Mauro su Assassin's Creed vediamo cosa è successo veramente in realtà scusate a proposito di Assassin's Creed Ezio si è abbonato a Twitch Prime per due mesi è stato di dore esatto probabilmente lui in realtà il film di Assassin's Creed è stato girato da regista di Macbeth perché casualmente se così vogliamo pensare in Macbeth chi c'era? Fassbender casualmente a Assassin's Creed il film perché è stato fatto? perché Fassbender sempre aveva detto che poteva essere interessato al progetto sempre casualmente la Ubisoft che non è una casa di produzione cinematografica ma è una casa che produce giochi all'orecchio Fassbender ci sta un grosso attore ci sta perfetto lo facciamo se c'è lui Fassbender porta il regista Fassbender diventa il direttore artistico del gioco perché del film scusate perché ci sono stati diversi articoli che sono usciti fuori sulla cosa all'uscita del film perché il film è stato dichiarato da tutti come un'enorme porcata dai Flavio lo sai anche tu che era così è stato dichiarato da tutti come un'enorme porcata perché si è stato detto più volte ci sono anche delle interviste di Fassbender che provano la cosa che lui dice che ha partecipato in maniera attiva alla produzione del film ha partecipato in maniera attiva a quello che era la sceneggiatura del film e come doveva andare il film qual è il problema in questo caso? il problema per cui i film tratti dei videogiochi vengono aspramente criticati è perché purtroppo molte volte non hanno motivo di esistere la maggior parte delle volte vengono fatti solo ed esclusivamente perché il videogioco ha ovviamente delle grosse vendite ha un grosso nome e quindi a livello commerciale si cerca di prendere quel videogioco e di portarlo al cinema sperando di recuperare le stesse persone che hanno acquistato amato e giocato ovviamente al videogioco e di portarle al cinema cosa che purtroppo la maggior parte delle volte non funziona dico la maggior parte perché di tutti questi tentativi non ce ne sono di terribili perché il primo Tomb Raider di Angelina con Angelina Jolie non era terribile il secondo lo era un pochino ma il primo non era brutto perché quello che noi videogiocatori e io i film tratti dei videogiochi li ho visti tutti tranne Pikachu e Warcraft perché non conosco i giochi e non conosco Pokémon e non conosco Warcraft quindi i film non mi hanno interessato li ho visti praticamente tutti quello che molte volte noi videogiocatori sbagliamo è il pensare di andare al cinema a vedere la stessa cosa che abbiamo giocato al cinema e quello è sbagliato perché l'unica cosa che si può portare al cinema in maniera interessante è il mondo del videogioco quindi il protagonista le fattezze del protagonista neanche troppo ma la caratteristica del protagonista e il mondo del protagonista in quel caso a volte qualcosa funziona in Tomb Raider quello che è stato fatto è stato proprio quello portare il personaggio di Lara Croft al cinema creando una storia completamente nuova ma che aveva il sapore di quello che avevamo visto nei videogiochi e in qualche caso ha funzionato quando col secondo invece hanno provato a fare un film action dove ci hanno messo il mistero di Tomb Raider ma ci hanno messo più azione è venuta fuori una porcata quando provano a copiare il videogioco purtroppo molto probabilmente lo fanno delle persone che veramente quel videogioco non lo conoscono perché o comunque non lo conoscono appieno non l'hanno amato appieno perché se noi vediamo il film di Max Payne ragazzi il videogioco è il videogioco è meraviglioso il film è un obbrobrio che non si può guardare senza contare aspetta fammi finire senza contare poi quando e sicuramente molti di voi non lo conosceranno molti di voi non lo conosceranno è il film del videogioco Super Mario Bros che quello è stato palesemente Super Mario Bros è il videogioco più famoso del mondo si facciamoci un film ci hanno fatto un film non si può guardare scusami Adriano fammi finire la cosa che ogni tanto sempre per rispondere a Flavio che ogni tanto riesce invece è il contrario è prendere il mondo dei film e crearci un videogioco un esempio su tutti si chiama mafia vai Flavio allora per quanto mi sia simpatico Giovanni lui ha detto esattamente tutti i motivi per cui ho portato questa opinione pericolosa cioè se Assassin's Creed fosse stata l'idea di Ubisoft insieme al regista di Macbeth e Fassbender di fare l'ennesima commercialata non ci sarebbe stato quel protagonista con Aguilar ci sarebbe stato Ezio Auditore perché era la sì voglia regole di marketing Fassbender è protagonista unico non puoi utilizzare niente e nessuno che sia più grosso di Fassbender no lui dice come personaggio al posto di assolutamente non puoi portare un personaggio famoso che si possa essere più importante Fassbender Giovanni Giovanni stia dicendo al posto di al posto di mi raccogliere vostro onore Giovanni sta dando per sicuro cose che non sappiamo se la sua opinione a questo punto fosse veritiera cioè che lo scopo era attirare i videogiocatori al cinema e basta senza nessuna pretesa avrebbero fatto qualcosa di collegato ad Assassin's Creed 2 invece hanno fatto proprio quello che lui diceva che non avevano fatto cioè hanno preso il contesto dei templari gli assassini e l'animus ci hanno messo dei personaggi nuovi che però si rifanno a quella che è l'esperienza con Desmond Miles e gli altri assassini e hanno provato a dare tutta una loro storia che poi magari come dice Marco sarà piena di difetti ma io non ho detto che il film è bellissimo ho detto che viene ingiustamente criticato ma se è brutto scusami allora se tu mi vai a criticare nel merito un film è un discorso allora io posso pure capire quello che vuoi però se tu invece di critiche mi vai a dire che Fassbender non era ironico che l'accento della Cotillard era ridicolo che Jeremy Irons era lì solo per i soldi non vuol dire niente perché non c'entra niente con il film e sono queste le uniche critiche che trovi in giro cioè non c'è altro poi c'è stato qualcuno che ha detto l'unica cosa bella di questo film è che il film è migliore tra i videogiochi ma nonostante questo fa cacare perché queste sono le critiche che si leggono in giro e che purtroppo lasciano un sacco di persone a casa persone che magari potevano metterci quei dieci euro quei cinque euro per andare in sala a vedere un film e molti di quelli che sono andati sono usciti soddisfatti non vuol dire che il film debba fare per forza schifo questo è il punto vuoi aggiungere qualcosa o ti ripassiamo la palla in realtà qualcosina la volevo aggiungere vai 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 cioè il mondo è pieno di idee strane di fallimenti da un verso o nell'altro cioè non so questo probabilmente lo ricorderanno in pochi perché non tanti hanno tante primaveri alle spalle come me che negli anni 80 che c'era un emergente regista con un famoso film di un alieno ci fu un'azienda che disse facciamo un bel gioco su questa cosa e tiriamo su un sacco di soldi il film era IT IT il crollo dell'Atari gambe all'aria all'Atari e milioni di copie di quel gioco sono seppellite nel deserto del New Messico sì fa molto ridere perché sono quelle idee di fare le commercialate invece quando si va a vedere le interviste a cui faceva riferimento Giovanni al regista di Assassin's Creed o al cast loro dicono noi avevamo in mente di raccontare la nostra storia su tre film il secondo lo volevano ambientare durante la guerra fredda purtroppo per fortuna 20th Century Fox è stata assorbita da Disney e Disney ha deciso di cancellare tutto il progetto io non credo che questo sia giusto perché un film che al netto di critiche e altro che ha comunque incassato più del doppio circa il doppio del budget deve avere almeno l'occasione anche di poter sbagliare non di anche perché fanno la seconda stagione di Baby salutiamo i colleghi di Netflix non devono per forza di cose a essere distrutti per partito preso a prescindere come se tutti i film sui videogiochi debbano essere ridicoli debbano essere irriverenti debbano essere ironici perché una storia seria non può venire da un videogioco le sceneggiature che vediamo non possono essere nei film cazzo facessero i film di The Last of Us trovate il cuore io ragazzi sto aspettando il film di Metal Gear Solid vai Marco anch'io sì allora il punto sì ma se poi lo sbagliano sono cazzi no ma il punto è che è tutto stupendo però viviamo in un mondo che è quello dei social che è quello che vivono poi le persone che tendenzialmente vanno a criticare come dice Flavio in cui la critica eccessiva è cioè non si può prendere il fatto che le persone sui social dicano stronzate e quindi poi andare a giudicare in base a questo perché le persone sui social dicono stronzate su qualunque cosa dalla politica ai film tratti ai videogiochi passando per i libri passando per come si cucina la carbonara quindi detto questo che è un presupposto a partire da noi a partire da noi esatto quindi detto questo secondo me questa è un po' una base fallace io credo che i film tratti dei videogiochi siano criticati eccessivamente perché purtroppo ad oggi non ci sono film tratti dei videogiochi che valgano la pena di essere visti ed è molto facile per cui io non li tra non è il problema che siamo meno tratto da un videogioco il problema è che la maggior parte dei film di cui stiamo parlando non sono buoni film non sono non sono non sono buoni film cioè non arrivano neanche al 6 per la maggior parte e non perché siano tratti ai videogiochi ma perché sono fatti male e secondo me visto che poi io credo che se prendi 10 eventi e quei 10 eventi tutti succede sempre la stessa cosa e c'è una concausa perché non può essere che siano proprio cose così casuali guarda caso tutti i film tratti ai videogiochi riescono sempre non proprio bene è perché c'è alla base una mentalità produttiva delle persone che fanno questi film che è un po' menefreghista secondo me a mio parere un po' tipo famolo perché è tratto da un videogioco e poi alla fine il risultato si vede e non è che il problema è che sono tratti dai videogiochi il problema è che sono brutti per la maggior parte poi ci sono le eccezioni tipo Detective Pikachu che secondo me è un buon film di intrattenimento tipo Sonic che non è un brutto film c'è sta pure Jim Carrey per cui diciamo che quello tiene in piedi un buon 80% del tutto però in generale non è un brutto film ma la maggior parte dei film tratti dei videogiochi sono inconcludenti perché secondo me c'è una mentalità dietro commerciale che è fatta semplicemente per fare incasso e Mauro è inutile che ti fai così perché tutti i film sono fatti per fare incasso infatti tutti i film sono fatti bene è questo il punto no Marco i film del mondo sono no fammi finire fammi parlare cioè i film del mondo sono fatti per fare incasso ma ci sono degli artisti dietro delle persone che ci tengono a quello che fanno invece purtroppo no evidentemente no perché è venuta una merda il film siccome Fastbender lo sa riconoscere no non lo so perché però peccato che il film di Fastbender è una merda Warcraft fa schifo Warcraft fa schifo Warcraft è un film va bene va bene e l'hai visto non l'hai visto non ti cambia niente nella vita non c'è un film tra l'altro dei videogiochi e tu esci dalla sala e dici oh sto film è una roba che mi ha lasciato qualcosa non c'è perché evidentemente c'è qualcuno alle spalle c'è una mentalità un approccio che è fallimentare ed è stupendo vivere nel mondo di Mauro Zingarelli in cui non è così ma l'oggettività e i fatti ci dicono che i film tratti dei videogiochi ad oggi sono inconcludenti e per la maggio fatti inutili hai già detto cerchiamo di rispettare l'appuntamento che abbiamo dato a Maurizio io mi sbricherò molto velocemente allora allora a me non pare che in questo format ne parliamo mai dei film polacchi tranne quando c'è Marina quindi mi sembra davvero stupido continuare a tirare in mezzo una mentalità commerciale contro una non meglio identificata volontà autoriale che tanto non trattiamo mai non la trattiamo mai non trattiamo mai non esiste Marco 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 dai non è un artista Marco non è un artista va bene Marco Marco i film fatti da Christopher Nolan fammi dire Adriano i film di Christopher Nolan sono la definizione di Summer Blockbuster che poi lui sia in grado di farli nella maniera che risultino meno commerciali agli occhi delle persone non significa che non siano i film di punta della Warner Brothers quindi il punto che stai dicendo non sussiste noi non parliamo mai di film d'autore in questo format ok tranne i rarissimi casi quindi venirmi a dire che il problema è la mentalità commerciale dietro ai film zio ma perché invece quelli dietro alla Marvel invece sono tutti dei grandi artisti ma lo sanno fare ma partono sempre dallo stesso presupposto ma lo sanno fare mi devi far parlare Marco il punto partono dal presupposto che vogliono poter fare vogliono fare dei soldi e hanno trovato una maniera di fare questi soldi che è percepita dal pubblico nella maniera giusta era la stessa cosa che stava provando a fare Pass Bender ed è la stessa cosa tra l'altro che hanno fatto con i film dei supereroi fino a un certo punto si era detto che tutti quanti i film dei supereroi facevano schifo Fantastici 4 faceva schifo faceva tutto schifo non si poteva farlo fare i film dei supereroi non avrebbero mai funzionato perché il problema è che non si riusciva a rispettare bla 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 non era vero non era vero semplicemente tutti quanti ce l'avevano a morte con un certo tipo di trasposizione perché il medium era ancora visto come un medium che dal punto di vista dei fan doveva essere mega fedele mega serio dal punto di vista della critica invece dovevano essere film giocattoli perché dovevano essere film dei supereroi ed è la stessa cosa che sta succedendo ovvero c'è ripeto l'opinione di Flavio non è che i film dei tratti dei videogiochi sono tutti dei capolavori ma che c'è una grossa quantità di persone che li giudicano a priori perché non rispettano il canone di quello che saranno immaginati in testa nessuno qui sta dicendo che Assassin's Creed è un capolavoro nessuno qui sta dicendo che Super Mario è un capolavoro però il punto è che in mezzo ci sono tanti film c'è Tomb Raider c'è Warcraft c'è Prince of Persia ci sono tanti film che meriterebbero un posto accanto a film che sono secondo me un abominio tipo Jurassic World che però continuiamo a fare e nessuno si sogna dire Jurassic World è un dramma dei film tratti dai libri è il film del merda Jurassic World come Fast and Furious ma li continuiamo a fare e c'è un sacco di gente che li continuiamo a fare e il discorso è che non incassano perché c'è un review bombing all'inizio dato dal fatto dai fan che sono decisamente troppo attaccati ad un materiale di partenza e vogliono per forza che quella roba si conformi a quello che loro hanno in testa ed è un problema vai Giovanni che sei l'ultimo il problema dei videogiochi allora in questo caso quello che dice Mauro non è del tutto sbagliato solo che qua continuiamo a dire che i film tratti dei videogiochi sono criticati giustamente è perché ancora non c'è un'azienda che è riuscita a farli bene come la Marvel ha fatto dai film dei fumetti perché anche i film sui fumetti cinecomic prima erano criticati tanto poi è arrivata la Marvel e li ha fatti bene perché a me non piacciono ma onestamente sono fatti bene e allora sono piaciuti purtroppo ancora non è arrivata un'azienda che è riuscita a fare i film dei videogiochi bene l'ho detto due volte il problema di Assassin's Creed continuiamo a parlare di Assassin's Creed ormai abbiamo quello in canna è che è fatto male ragazzi non si può dire qualunque cosa ma è fatto male è bellissimo il fatto che ci sia stato Fastbender che diceva io credo questo progetto voglio farne altri 40 ma comunque è fatto male e quindi gli altri non li fai non c'è tanto di cui discuterci sopra cioè è oggettivamente fatto male poi è sicuramente vero che dato che c'è questo precedente ci si aspetta magari qualcuno si aspetta tanto dai film sui videogiochi ma io sono il primo che mi aspetto tanto dal film sui videogiochi perché amo i videogiochi e quando li fanno male mi incazzo perché sono il primo che ci rimane male il primo Resident Evil era accettabile gli altri sono la merda e sono una merda palesemente perché dovevano fare i film per portare la gente al cinema ma sono film brutti non ci si può dire niente sono brutti cioè non è che possono piacere non possono piacere non c'entra l'autorialità non c'entra il regista bravo non c'entra niente sono proprio brutti allora siccome io penso che abbiamo proprio sviscerato l'argomento in tutte le sue io non avevo finito però ormai ho finito abbiamo detto tutto perché tanto stiamo ridicendo sempre gli stessi concetti è il momento delle ringhe finali la chat vedo che si è bella parecchio scaldata quindi tenetevi pronti perché in questo momento sta partendo il sondaggio quindi via il sondaggio io voglio sapere che cosa pensa la chat nel frattempo arringa per la difesa arringa per l'accusa nel tempo del sondaggio quindi vai Flavio con i tuoi due minuti finali allora in questi due minuti io voglio assolutamente rimettere il discorso sui giusti binari visto che capisco il gioco delle parti e che quindi ognuno debba cercare di tirare l'acqua al proprio murino però io non ho detto che i film tratti dai videogiochi non devono essere criticati aspetta aspetta Maurizio aspetta lì stiamo finendo stiamo alla ringa finale vai Flavio scusa se ti ho interrotto vai allora dicevo il punto non è che i film tratti da videogiochi non debbano essere criticati anzi io sarei contentissimo se iniziassi a leggere delle critiche serie costruttive fatte nel merito e non il film non fa ridere e quindi fa schifo perché tratto dai videogiochi che è una cosa puerile a me queste cose fanno veramente girare le cosiddette anche perché se noi andiamo a vedere film di temi simili o comunque più o meno comparabili non possiamo vedere che in Assassin's Creed l'animus è una cosa troppo cervellotica che non funziona una merda però se invece c'è un altro film dove ci sta una macchinetta che fa entrare tutti nei sogni di qualcuno allora Nolan è un genio oppure mi dà enormemente fastidio vedere come uno degli aspetti in cui vengono criticati i film tratti da videogiochi sia la CGI quindi tu dici che c'è anche un pregiudizio in chi non conosce il videogioco stai dicendo ad esempio esatto ok finisci finisci allora il punto è cioè se noi vediamo Warcraft che è tutto fatto in CGI e il commento che viene fatto al regista che mi pare si chiamasse Kurzer Karser qualcosa del genere Justin Karser esatto e dice no lui è un raccontafavole che è caduto nell'abisso della CGI come Peter Jackson e l'Hobbit che critica è? infatti l'Hobbit fa schifo allora ho capito ma il punto non è la CGI concludi Fario così come in Assassin's Creed viene detto è un film infarcito di CGI come se fosse quasi un mezzuccio un malus però poi se lo fa James Cameron avatar è fichissimo allora no perché se fa schifo la CGI deve fare schifo sempre non è che deve allora posso scusami aspetta prima di parlare l'ultima frase chiudisci aspetta aspetta però Marco fai finire Flavio allora io dico semplicemente che se la giuria e quindi sia la chat che il giudice credono che i film sui videogiochi non valgano nulla allora andate a votare no contro la mia opinione ma se credete che invece qualcosa di buono può essere allora a questo punto bisogna andare nel merito e far sentire la propria voce perché il film va a sempre in qualsiasi caso valutato per quello che offre non per da dove viene allora Marco io però ti pregherei di stare al marco no 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 si 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 lo dico io calmati allora intanto parto col dire che Mauro Zingarelli mi ha citato film di supereroi dimenticando di tipo Tim Burton dimenticando di tipo Sam Raimi dimenticando di tipo Brian Singer che sono film che hanno avuto un discreto successo e sono venuti prima tipo dei Fantastici 4 alcuni quindi prima cosa la seconda cosa io non sto polarizzando autorialità e commercialità del film io sto solo dicendo che c'è un modo di fare le cose fatte bene e c'è un modo di fare le cose fatte male se tu fai un film che ha l'obiettivo di essere anche un blockbuster non significa che non esiste solo il film polacco o i film Marvel ci sono tante cose in mezzo nel mezzo i film di videogiochi ad oggi sono film che come ha detto Giovanni sono riusciti male quindi il punto qual è non è andare a pensare quello che potrebbe essere la critica dei videogiochi se i film dei videogiochi fossero fatti bene no ad oggi i film tratti di videogiochi sono fatti male perché forse c'è un problema alla base evidentemente che non è la critica è tutto quello che c'è dietro e forse la critica serve anche per arrivare a tirare fuori dei film che magari siano fatti bene quindi se volete vedere dei film tratti ai videogiochi fatti decentemente allora dovete pensare e andare a votare no i film di videogiochi non sono eccessivamente criticati sono criticati perché vivono di uno storico negativo in maniera quasi totalitaria mentre i film se poi invece volete sperare che un giorno uscirà un film tratto dai videogiochi che per bucio di culo è uscito bene perché esce fuori quello che lo sa fare allora potete votare sì secondo me è lineare quanto manca alla fine del sondaggio poco l'unica cosa che volevo aggiungere se me lo permettete aspetta Maurizio va bene vai si finisce è che bisognava qua bisognava dire all'inizio intanto se la questione di criticati era se dal punto di vista della critica o dal punto di vista del pubblico no no è stato chiaro semplicemente perché no questo non si è capito bene semplicemente perché la critica la maggior parte delle volte è ignorante per quanto riguarda il discorso videogiochi e quindi lo criticheranno a prescindere io per quanto mi riguarda ero molto più interessato alla critica del pubblico e non perché il pubblico è quello che usa veramente i videogiochi che conosce il mondo dei videogiochi perché il mondo della critica cinematografica il mondo dei videogiochi non lo conosce e lo criticheranno sempre e a prescindere e quello non cambierà mai da video per i videogiocatori è tutta un'altra storia e da videogiocatore ti dico io continuerò a criticarli fino a quando li faranno così male esatto perché da amante dei videogiocatori io li voglio fatti bene io voglio che facciano i film dei videogiochi esattamente come vengono fatti i film della ma il sondaggio ormai è finito Mauro non ti preoccupare il pregiudizio è fondato perché ti passi come film della Marvel voglio che ci spendano i soldi e non che li facciano solo perché c'è l'attore protagonista che dice io ci sto Giovanni leggimi il risultato del sondaggio che peraltro stasera notizia delle notizie avendo un altro computer davanti ho già visto però leggilo te il risultato del sondaggio probabilmente la gente ha capito pure mai il sondaggio film e tratti dei videogiochi sono eccessivamente criticati c'è stato un 63 e un 37 il 37% ha detto di no e il 63% ha detto di sì quindi secondo la chat sono eccessivamente criticati quindi da questo si direbbe che per la chat sono criticati in maniera ingiusta non si direbbe così quindi da quello che dice la chat io però ho letto sì sì ho letto un po' c'è un sacco di gente che dice ragazzi la chat ha votato a Romescio no no non è vero comunque ragazzi ci tengo solo a dire che The Witcher la serie Netflix è tratta dai libri dai libri esatto io sto leggendo da un po' i commenti e ti devo dire che tanta gente ha votato sì perché gli è andato sulle palle Marco te lo devo dire c'è scritto un sacco di gente e poi veramente hanno apprezzato invece anche la pagatezza di Flavio quindi secondo me hanno capito quello che volevo dire io è che scusa Adriano grazie per aver portato il mondo dei videogiochi perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore e fra l'altro tu porti la maglietta di un videogioco che soprattutto per il secondo di cui non dirò niente per farne un film si deve avere un enorme coraggio stanno facendo la serie lo sceneggiatore lo sceneggiatore di Chernobyl invece ti posso dire che sempre da Naughty Dog che sono quelli che hanno fatto stanno facendo il film di Uncharted stanno facendo il film di Uncharted è stato scritturato Tom Holland e io di questo ho paura però quello è un altro non è per motivi commerciali che hanno scritturato Tom Holland allora prendono meno no zio ma il punto è che però va bene però aspetta aspetta perché se no non finiamo più allora io voglio dire che io sono io credo che poi i videogiocatori come a differenza di chi legge un film no perché qui parliamo di trasposizioni adattamenti chiamateli come vi pare comunque è una nicchia diversa molto più nicchia molto più incazzata il videogiocatore rispetto a il lettore medio dell'opera letteraria quindi secondo me di base c'è anche questo cioè che il videogiocatore parte è comunque più incazzato si aspetta di più perché si ritiene già di suo in quanto videogiocatore si ritiene più migliore di altri e quindi vuole dire di più si ritiene che qualcuno gli debba qualcosa e quindi e quindi ti dico e poi io anche ad esempio con me ha funzionato così io sono un giocatore di tutti gli Assassin's Creed che mi sono piaciuti molto alcuni di più alcuni di meno e io sono stato frenato dalla critica molto non l'ho visto il film di Assassin's Creed e sono stato bloccato da questo quindi ha influito su di me il discorso che dice Flavio è brutto vero detto questo detto questo inoltre io voglio questa sera voglio sommato anche a il voto della chat che secondo me è stato comunque importante secondo me può vincere la difesa in quanto perché secondo me è vero che è un mondo comunque che parte da cui che si vede con un pregiudizio e soprattutto anche la critica che dice Giovanni in quanto critica in teoria non dovrebbe dire cagate se sei un critico dovresti anche informarti sul videogioco in quanto critico ti dico molte volte ho fatto parte di un sito dove si scrivono recensioni di film come Flavio ha fatto parte di un sito dove si scrivono recensioni di videogiochi e te lo dico per esperienza perché alcuni recensori li conosco quando vanno a vedere i film tratti dei videogiochi al massimo si vanno a vedere qualche video su youtube dove si vede qualche gameplay però stai confermando ma tu devi vederti il film mica devi giocare al videogioco no però stai confermando stai confermando stai confermando il fatto che ci sia del pregiudizio ma se tu ti vedi non è che ti leggi il libro prima di vederti il film che state dicendo ragazzi mi sono scaricato c'è sicuramente del pregiudizio e i critici è un fatto che ad oggi tutti i film dei videogiochi sono brutti ragazzi è un pregiudizio che il pregiudizio è negativo a priori ma non è che puoi classificare il pregiudizio quello è il punto invece sì perché se tutti fanno schifo parti purtroppo dal fatto che lo storico questo secondo te non è un deterrente per qualcuno che magari ci vuole investire a fare un film non lo va a fare perché magari dice partono prevenuti oppure magari potresti farlo fatto bene ad esempio per dirne una ragazzi come tutte le sei adesso mi sono scaricate le puste quindi nella pausa provo a riattaccare il film continuiamo nel post opinioni pericolose con maurizio anche ringraziami tanto flavio grazie 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 per aver portato i videogiochi grazie grazie a voi per l'invito una nuova una nuova una nuova ci prendiamo un minuto velozissimo per andare a fare la pipì ma proprio un minuto c'è una nuova schermata peraltro Giovanni per questa pausa giusto però noi abbiamo la sigla qua del post quindi qua non ci serve adesso torniamo nel post opinioni dove invece parliamo di come veramente la pensiamo al di fuori delle squadre e Maurizio ci racconta come vengono doppiati i videogiochi americani assolutamente sì ha doppiato assassin's creed tra l'altro esatto io voglio sapere anche la storia del doppiaggio in Grecia dai a dopo ciao ciao ciao